buonasera ci si sente abbiamo dei problemi di rete adesso forse abbiamo risolto sì dovremmo aver risolto ci sentite tutto a posto allora siamo qua questa sera su youtube insieme per ora un solo ospite però dopo dovrebbero arrivare gli altri i cosiddetti veterani del retro stasera siamo in compagnia di un ospite importante del settore che abbiamo già avuto il piacere di avere sul canale che è igor stella igor maggiorelli però sul canale youtube si chiama igor stella perché se non erro è appassionato dei laser game in particolare di interstellar che dovrebbe sapere perché viene quello con me non ho capito sì perché viene quello in realtà è un gioco io non avevo ancora in testella sul dragon slayer project che è un sito americano a un certo punto mi sembra jeff kinder che è il fondatore di quel sito ha incominciato a dare a tutti noi dei nickname perché praticamente io fino a quel momento usavo dexter e tutti si chiamavano dexter quindi aveva erano un'infrazione di nickname e lui per scherzare incominciò a dare a varie persone una parte del nome una parte delle del gioco il mio è venuto fuori igor stella cioè igor con la con l'inter stella e boh mi è piaciuto e l'ho tenuto mi sembra che me l'abbia creato nel 2000 la qualcosa del genere parecchio prende gli albori di internet e da allora l'ho sempre tenuto tutto lì ok perfetto io pensavo c'entrarsi con un qualche cabinato in realtà i giochi che mi piacciono di più non non è né in testella nel dragon slayer è super donkey shot super donkey water successivamente c'è lo space ace e in fanalino c'è il dragon slayer interstellar e firefox sono una cosa particolare interstellar è un gran gioco perché anche se sfortunato rimane un bellissimo spaziale o uno sparatutto e firefox rimane io penso una delle più complicate macchine laser game che ci possono esistere almeno a livello hardware comunque anche un gran gioco tutte e due questi giochi però sono maledettamente difficili ma veramente maledettamente difficili poi è ovvio che essendo igor stellar e quello il gioco che è laggiù in testella è ovvio che tutti pensano è il mio preferito sia quello in realtà non è così ma poco importa insomma sempre un laser game io sinceramente pensavo quello lo so per lo pensano tutti però non è non è un problema un gioco mi piace quindi non è non è un guai infatti è là per l'altro non c'ho solo questi ora che vedi ma laggiù posso fatelo vedere c'è altri cabinati c'è un cliffhanger e è un coso il sidam con dentro appunto il il super donkey shot super donkey otter anche perché io sennò avrei tre cabinati dragoslay non ci possono mettere dentro tre tre giochi dragoslay quindi dragoslay versione Atari che vedi qui dietro un dragoslay versione cimratronics che in realtà l'ho costruito io in legno ma all'interno è tutto originale quindi con le parti originali versione cimratronics e poi la versione italiana che è il sidam tre titoli tutte e tre uguali quindi ho fatto dragoslayer Atari su questo Space Ace su il cabinato cimratronics e dentro a senza modificare nulla quindi facendo solo cavi di adattamento il super donkey shot tra l'altro si vede nel mio canale super donkey shot sul cabinato del sidam che secondo me ci sta bene perché quel cabinato sulla fiancata c'è scritto laser video perché probabilmente nell'intento della sidam era appunto utilizzarlo per metterci dentro un po tutti i giochi insomma tutti i giochi poteva metterci certo certo e innanzitutto volevo ringraziare i quattro spettatori che ci sono stasera e ci salutano di già se allora innanzitutto volevo dire in questa live siamo qui per rispondere alle vostre domande altrimenti faremo noi un discorso comunque nel nostro discorso frappurremo la risposta alle vostre domande intanto qui c'è mister mister voiceover che ci saluta non entri non entri voiceover buonasera è sempre un piacere ascoltare igor e matteo e matteo deve ancora arrivare deve ancora arrivare ma non guarda che ti ho invitato in privato anche te se vuoi entrare a parlare sei nel su discord vai a vedere perché non ho niente da far vedere non ti ho ricavato la tua nicchia tra le console perché perché non mi dai niente da vedere vuoi solo mostrare la tua voce però saluta anche vai per boschi ci saluta allora quindi se avete domande fate pure comunque iniziamo direi iniziamo perché a igor è stato definito questo il canale il mostro sacro del video game non è così ma comunque va bene in realtà c'è quello che conosco più o meno quello che che chiacchierò tutte le volte che che apro il la telecamera e chiacchierò sul mio canale quindi forse sono anche abbastanza ripetitivo comunque per l'argomento di oggi ma io partirei con perché come mai si chiamano coin op perché è una cosa che ultimamente mi dà fastidio perché ultimamente tanti li chiamano coin up e non c'è assolutamente un up in realtà si chiamano coin operated cioè sta per macchina gettoni se vogliamo quindi coin lineetta op operated quindi non coin pop cioè su certo certo quello è il loro il vero vera designazione poi un'altra cosa molto spesso li chiamano cassoni che è una cosa che a me mi mi urta i nervi roba da fantascienza perché leggano cab e quindi gli viene in mente chissà che cosa in realtà cab sta per cabinet quindi mobile non sta per cassone poi so che molti posti li chiamano così va bene comunque queste sono più o meno le varie cose che 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 si usano per identificare questi giochi arcade è ovvio che vuol dire semplicemente che è un gioco immediato cioè io mi metto ai comandi prima gettone secondo gettone ho capito come funziona e quindi devo devo riuscire a divertirmi molto velocemente senza dover stare a fare a capire la storia un esempio molto pratico un pacman è un coin op hitman non lo è nonostante molti me lo definiscano chissà cosa è un un altro gioco un gioco bellissimo fantastico ma non è un arcade perché non è immediato tutto lì sì sì comunque voi sono degli arcade io vorrei parlare un attimino di una cosa che di solito non si parla mai computer space computer space è di fatto di fatto in realtà ci sarebbe un altro che è nato due mesi prima però lasciamo perdere diciamo computer space è considerato il primo vero arcade è un compiù è un gioco fatto nella nel suo guscio strampalato blu giallo verde ce ne sono diversi colori che in realtà è stato prodotto tanti dicono dalla dall'atari in realtà è stato prodotto dalla nothing associated che è una società alla quale nolan brusher e ted si sono affiancati per poterlo produrre però il gioco non è nato nel 71 cioè la versione arcade è nata nel 71 e su questo non ci piove ma computer space in realtà si chiama space world ed è nato nel 62 su un computer su una macchina che era il pdp1 è una macchina professionale che era montata all'interno di un di una scuola di un'università se non mi ricordo male ed era stato programmato questo gioco poi il loro il loro intento di 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 nolan e di ted è quello di semplificare il possibile l'hardware cosa che ci riescano e farlo uscire come arcade parlavo prima che probabilmente non è vero 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 che è il primo arcade perché in realtà ci sarebbe un altro gioco che si chiama galaxy game che guarda strano è basato sempre su space war quindi praticamente lo stesso gioco l'hanno tirato fuori in due però quello computer space è quello più più famoso è considerato comunque il primo il primo arcade e non è andata bene cioè la natting pensava che ci fossero più vendite una valanga di vendite nonostante non sia andato male male parliamo comunque della prima macchina non è andata con quanto loro volevano ok quindi diciamo che ha avuto virgolette un successo e ne fanno poi dei seguiti a natting poi creerà altri giochi una specie di clone chiamato tra l'altro star trek che del 72 che non c'entra nulla con quello vettoriale poi comprano un computer space a due giocatori insomma si andranno avanti qui si le strade si dividano e poi nascerà con nel 72 con il primo gioco atari che poi il famoso pong che poi lipa si è una cosa esponenziale perché abbiamo un gioco che praticamente abbiamo visto entrare da tutte le parti sia negli arcade copiato di copiato da tante società tra l'altro ci sarebbe anche una società che in realtà non è una concorrente ma sarebbe proprio la stessa tari una storia un po un po un po strana comunque diciamo che riescono a fare anche degli accordi per creare poi la vera console pong è considerato la console di primo di prima generazione per intendersi quindi insomma è da qui praticamente tutto decolla tutto va avanti poi ma il pong ha una cioè diciamo quale ditta pong è legato pong in realtà anche pong c'è una gestazione strana diciamo che pong viene viene creato da atari diciamo così nel 72 se non mi ricordo male in realtà fu già diciamo un po creato su altre macchine guardando da da system 16 sto mostrando in live c'è scritto 1972 e c'è scritto atari dice sì perché quello arcade atari punto però è come computer space non è che computer space è arrivato così dal nulla in realtà computer space è arrivato già perché come ti ho detto già esisteva cioè qui proprio esisteva completamente che era chiamato space world è nato molto prima un pong diciamo che come lo conosciamo noi quello atari l'ha fatto praticamente l'atari in realtà c'era già un po di di robetta per esempio il magnavoz odyssey è in realtà è una macchina che nasce prima ora se non mi ricordo male il magnavoz qui scrivono in continuazione in magnavoz è un hardware che esce abbastanza possiamo considerarlo il capostipite delle console alla fine ma chi è che scrive in continuazione non ho capito no mi scrivono a me comunque poi non ti interrobo più e voiceover ha detto che ci segue però dei problemi col picci non riesce a entrare invece matteo sembra che sia entrato ma gli ho detto ti vuoi unire non mi risponde però è collegato a disco vai pure avanti ma dicevo non appare comunque su system 16 non c'è traccia di computer space o space world no no anche perché loro vanno da da una certa età in poi per esempio c'è anche un errore gravissimo se vogliamo vuoi vedere l'errore si dai se tu vai su taito se non ricordo male se stanno andando facendo vedere anche a tutti se vai su taito laser game taito laser game aspetta è un po' in basso vorrebbe aspetta faccio così laser no non c'è no ma sono andato in si chiama taito lg system aspetta taito lg lg system sì sì schiaccia lì ok sì c'è cosa vedi come primo gioco cliffhanger che non è il loro è infatti la taito non ha mai sviluppato cliffhanger cliffhanger è un gioco voluto creato pensato e studiato dalla stern electronics quindi loro l'hanno importato poi in tra l'altro con scarso successo la taito ma loro non ci hanno mai messo nulla io ho scritto anche a system 16 più volte ma non ma rimane dell'idea che che è stato creato perché cartone animato giapponese lupen e giapponese taito e giapponese uguale fatto da loro purtroppo non è così ho capito però è una cosa insomma tutti gli altri giochi vedi sotto invece sono fatti da loro effettivamente cosmo circuit laser grand pixel ninja iate space battleship amato e time gali si li ha radunati tutti insieme anche se poi hanno tutti hardware più o meno diversi e vabbè nessun problema sotto sto punto di vista ok tanto visto che siamo un po sui laser game visto che per momento non mi sembra che ci siano domande no per ora no si intendo proprio la stern flipper aspetta c'è uno che ha fatto una domanda siamo sette spettatori adesso buonasera a tutti intendi la stern dei flipper esattamente la stern del flipper la stern e flipper insieme a un'altra società ha creato dei giochi alcuni giochi sono stati creati da loro ora non sono tantissimi però per esempio berserk è uno di loro quindi una stern ha creato anche videogiochi ora dicevo visto che siamo un po sui laser game i laser game sono il risultato oltre al fatto come già fatto in una diretta comunque ho cercato di spiegare non era nuovo utilizzare o cercare di utilizzare le immagini filmate quindi di grosso effetto nei videogiochi perché in realtà già negli anni 70 qualcosa era già apparso quindi c'erano già addirittura c'erano dei giubbots con con le immagini coi film quindi in 16 mi sembra 16 millimetri mi pare o 35 ora non mi ricordo quindi l'arrivo della delle del laser game del laser disc praticamente un'evoluzione di queste acqua in realtà però lascia che mi arriva in un momento l'83 che c'è stato il famoso crack dei videogiochi che per noi è come se non fosse successo nulla nell'83 noi non ce ne siamo neanche accorti però in america è stato devastante america e giappone soprattutto america è stata veramente devastante l'atari è andata veramente giù tanto ed era se non la prima una delle prime società che lavorava in quel settore quindi las game sono una specie di ancora di salvezza per molte di queste società una fra tutte per esempio la cimatronis cimatronis stava fallendo dopo aver fatto degli ottimi giochi vettoriali ha incominciato ad andare sempre peggio e stava chiudendo era in capter 11 cioè quel quel sistema che permette alla società di andare verso la chiusura in america arrivando il laser game la creando la cimatronis trago slide tra l'altro riprende è ovviamente una cosa che è durata poco perché dura dall 82 perché laser game nazionale nascono in 82 finisce grosso modo in 85 anche se c'è qualche altra casa che produce dei giochi fino all'87 e poi riparte negli anni 90 perché la tecnologia era molto costosa e ovviamente essendo molto costosa e molto all'avanguardia non era perfettamente adatta per i videogiochi lasciamo perdere giochi a mosse non i giochi a mosse giochi di guida non giochi di guida la tecnologia comunque non era perfetta per per l'archede che doveva stare acceso più o meno 24 ore al giorno quindi un laser game non aveva un laser disco non ce la poteva fare tant'è che dopo un anno dovevi cambiare i tubi a gas questa è una storia già raccontato tante volte se vi interessa ve la racconto un'altra volta quindi il motivo per cui hanno durato una finestra corta ma sono stati tantissime società a produrre giochi tant'è che abbiamo una valanga di giochi cioè abbiamo una quarantina 38 39 laser game non 12 come tanti pensano 38 40 laser game in un ampio in un raggio molto 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 stretto vuol dire che tutti ci hanno veramente puntate ne abbiamo di tutti i tipi qui ti hai fatto vedere cliff angel hai fatto vedere cosmo circuits lasso stavo facendo vedere firefox firefox stai facendo vedere si si è un gioco sempre dell'atari che è molto molto particolare il primo e unico gioco laser game dell'atari l'unico gioco di atari di firefox ma è un gioco maledettamente complesso come hardware ma incredibile ed è cioè non si vede neanche i salti del laser di cioè in pratica questo gioco per farti vedere un filmato continuativo salta in continuazione da un frame all'altro il motivo è perché se tu colpisci un aeroplano deve esplodere nel momento in cui lo colpisci ma se non colpisci il secondo aeroplano il secondo aeroplano deve continuare quindi c'è il filmato che il primo aeroplano esplode oppure il filmato del secondo aeroplano che esplode quindi è un continuo saltellare in continuazione per permetteti di vedere le esplosioni che le esplosioni non sono fatte dai computer ma sono registrate sui laser disc questo è un gran gioco però è molto 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 difficile non c'è verso di finirlo io per lo meno non riesco a finirlo in hard non riesco a finire solo in easy qualche volta in medium ed è lì è cioè si 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 è lì proprio in casa quindi no no è molto molto bella anche proprio la macchia esteticamente bellissima è un capolavoro di questo qua il controllo cioè il comando immagino c'è tipo lo vedo anche dietro lì da te dove c'è poggiato la bambolina di arle qui il controllo e poi fai un gioco molto particolare nelle parti alte c'è due casse nelle parti basse c'è altre due casse sotto c'è il un volume che serve per mettere le cuffie tu metti le cuffie e poi regolarti il volume in cuffie il controller si può muovere alto basso quindi puoi muovere le cloche alto basso destra e sinistra e poi sai i grilletti davanti che servono per sparare diciamo le miratatrice i grilletti sopra i due pulsanti sopra servono sparare i missili quindi è un gioco piuttosto particolare inoltre il discorso è che se tu non butti giù gli aeroplani il tuo carburante si esaurisce se colpisci i nemici il tuo carburante lo recuperi se i nemici ti colpiscono tu perdi del carburante quindi cioè è veramente difficile perché praticamente in hard devi buttarli giù tutti devi praticamente ristruggerli tutti che è abbastanza complesso comunque voi sopra dice non ho capito cosa si riferisce io le faccio dopo ma sono sua amiga aspetto il momento buono non ho capito cosa si riferiva lo so di cosa parla ma per esempio tanto per parlare di amiga prendiamo un po la palla e balzo si amica è un computer che in pochi lo sanno ma è stata nel mondo arcade è stato lo sapevi no se tu vai su amica hard book mi pare sia oggi è un sito si aspetta era hardware book hardware book bravo big book of amica hardware book amica si si ma ho scritto così ma viene fuori sto sito big book of amica hardware c'è amica modus e il clonese amica modus e clonese si 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 ok clicca lì si ci sono ok adesso già ci possiamo nominare già il famoso cubo ct2 ma ci arriviamo dopo il secondo nome clicca sul secondo nome in alto america game allora no io vedo america laser game mad dog mccree esatto è un laser game il gioco diciamo western che poi in italia faceva ridere soprattutto per il doppiaggio ok era in italiano si doppiaggio fatto in italiano dagli americani che non avevano la più vaga idea di cosa stavano dicendo cioè praticamente per risparmiare gli hanno gli hanno fatto sentire un po il suono in italiano della frase loro hanno cercato di ripeterla però è venuto fuori alcune frasi assurde sta mostrando l'interno è quello l'interno ora fammi vedere che si stai mostrando a sì ok l'interno c'è un amica smontato è un amica 500 1.2 1.3 non 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 una macchina particolare con una rom board collegata quindi con il programma collegato sulla slot zorro è una genlock di base questo in realtà ne esiste un altro di questi sistemi che qui non viene menzionato che è quello della pica quell'american laser game è una società americana la pica invece una società spagnola che praticamente crea un clone degli america in american laser game crea un gioco si chiama marbello vice zorton brothers un altro che non mi ricordo praticamente gli stessi giochi solo fatti in nuovo filmato ma fatti solo in spagnolo esce un po da qui e vai a cercare vediamo un po se lo ritrovo eccolo qua upi scope è un po più in giù della grand production aspetta vado a vedere aspetta perché stavo rispondendo che matteo sta entrando allora un secondo mentre voi so verrà detto quello che si riferiva prima le domande ha detto che dopo ci farà le domande dopo solo sulla miga ce le farà detto più tardi e poi ha detto voi so vera ricordo che firefox la voce sintetizzata di clint ashwood è vero è vero il problema è che non si capisce che clint is food ecco ecco matteo sta entrando matteo attenzione cioè vedo non vedo la webcam ma vedo che è apparso comunque dimmi cosa dovevo mettere detto dopo vai esci da lì e cerca il tanto per farti vedere è arrivato matteo in ritardo ciao a igor scusate è stata un c'è stato qualche imprevisto e non allora vedo con igor non vedo sotto il padrone di casa il padrone di casa lo vedi dall'altra parte non mi mi vedi solo su youtube perché altrimenti posso io posso fare solo una webcam altrimenti va bene va bene su youtube mi vedi che sul mio canale stiamo lì adesso ti aggiungo la tua la tua ecco anche al al live comunque andiamo avanti igor dopo dopo matteo sì tanto per far vedere che amica è stato anche lì se tu va a cercare un gioco si chiama della grand production upscope vedi che è un gioco di sottomarini lì dentro c'è una miga mille eccolo qua sì ma che che camminato strano l'altro anche abbastanza raro secondo che aggiungo matteo intanto vuoi dire qualcosa che aggiungo matteo no vabbè questo è un gioco praticamente hanno utilizzato una miga 2000 un'amica mille pure semplice in alcuni mobili addirittura hanno messo la 500 perché poi alla fine è la stessa roba per fare un arcade hanno preso proprio paro paro la macchina boom messa dentro ringraziamo labo chimica valdarno che sei iscritto grazie labo chimica valdarno labo chimica valdarno sì ok ok poi vai un po più in giù che voglio far vedere l'ultimo vediamo un po se c'è anzi gli ultimi due sì vediamo se c'è perché non me lo ricordo perché io gli avevo mandato l'immagine ma non sono sicuro le abbiamo messe dimmi gli ultimi due cosa sono bombatus ok un po più in su arcadia system arcadia system sì clicca lì sì sì ci sono dentro questo è un amiga 500 con i giochi programmati appositamente ma comunque basati su cui sulla produzione normale dell'amica che sono a cartuccia ah sì se tu cerchi tu vedi l'immagine faccio vedere eccole qua sono circuiti da inserire sì 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 si vede ed è un amiga 500 non cambia nulla anche questo è molto molto carino anche questa probabilmente non lo sapevano a molti che esisteva e per ultimo tanto per stare sui flipper l'ultimo in fondo clicca sull'ultimo in fondo william elettronics che non so se c'è la figura io gliel'avevo mandata però eccola qua pinball ah no non c'è aspetta aspetta un attimo no no allora pinball pinball 2000 non è nient'altro che quello che poi è stato chiamato star wars e quell'altro com'è che si chiamava star wars e poi l'altro era attack off mars qualcosa di questo tipo comunque sono quei flipper che c'è un monitor nella testata che proietta verso il vetro e ti fa vedere qualcosa in tre dimensioni dentro il playfield sono flipper abbastanza famosi è stato costruito con amiga 2000 il primo prototipo una cosa un po' particolare tanto per dire che perché molti dicano ma nel mondo degli arcade non è vero le macchine sono state superate da dalle console dai computer in realtà hanno preso i computer ce l'hanno proprio fischiati dentro e li hanno utilizzati se tu torni su system 16 aspetta che aspetta che un secondo perché ho fatto mostrare al mattino mi serve un secondo perché eccolo qua è apparso anche lui sta mettendo a posto perché la prima volta che la facciamo matteo stai guardando la live si stai guardando su youtube vedo igor e poi vedo me la mia faccia aspetta che ti sto mettendo te ti sto mettendo nel nome mentre igor dentro il museo ecco questo programma non lo conosco proprio per niente sto programma ah ma l'ho fatto adesso ok vabbè è obs niente di che ok adesso adesso ti vedi no sì sì posto allora dimmi pure igor vai su system 16 sull'home page ah ok ci ci sono poi vai in basso dove c'è scritto base hardware base hardware dov'è è abbastanza in basso non lo vedo se tu riesci a vedere sulla sinistra sulla sinistra ah sì base hardware eccolo qua ci sono allora scorri e guarda quante macchine ci sono finite dentro e non sono tutte abbiamo il 3d o l'atari jaguar light spots il nintendo 64 il nes e famicom il nintendo gamecube i pc il siga dreamcast il master system il mega drive il siga saturn sony playstation playstation 2 playstation 3 e questo non sono neanche una lista completa perché ci sono finite anche altre macchine come pc engine c'è finito dentro i cioè non è vero che non hanno che 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 le 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 console hanno sicuramente ucciso no 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 diciamo che sfruttate molto anche loro nel mondo arcade certo comunque volevo presentare un attimo matteo perché magari ha cambiato ha cambiato locazione vedo vedo uno sfondo diverso sì così riesco a guardare in faccia igor mentre parla se no mi tocca sempre fare ma dietro c'è una chitarra non c'hai il coso dai come si fa aspetta che è una chitarra di gitarino poi c'è un bel poster master system del mega drive no devo sistemare la web vabbè si sono spostate si è spostata la webcam di igor aspetta che la metto a posto intanto volevo dire una cosa intanto volevo dire che che igor ha anche il titolo informativo e poi c'è gente che continua a scriversi maximilian privrat c'è scritto grazie mille ci sono anche le domande adesso facciamo una cosa alla volta allora volevo dire che igor appena ho detto che c'era l'hanno definito il mostro del videogame in te invece matteo il dante del collezionismo l'ho definito così perché c'era una tua foto quella che ho messo che eri con i gori e c'era scritto il dante e il virgilio del collezionismo non so dove l'hai trovata non ho presente quale sia è trovata su google immagini era lì e allora mi ha fatto ridere che c'è tutta anche la descrizione dopo mandami un video che voglio vedere di cosa stai parlando non l'ho mai visto con buon fede sì allora adesso sto mettendo a posto tanto volevo leggere domande ben arrivato matteo il guru delle console senza nulla togliere il rigor buonasera a tutti ciao a tutti cos'è attenzione al link che avete messo su facebook manda un video che dura 5 minuti e finisce là cosa vuol dire vabbè non lo so niente niente proseguiamo proseguiamo Matteo vuoi aggiungere qualcosa su questo aspetto che ritroviamo le console nei cabinati vuoi aggiungere qualche tua esperienza per ora? te ne arrivo un pochino tardi per poter intervenire giusto oggi pomeriggio stavo guardando l'annuncio in vendita di un mio amico che conosce anche tra l'altro Igor cioè Alberto Ferrari che vendeva un CD32 e mi è passato per la testa che mi sarebbe piaciuto avere in collezione il cubo no come si chiama Igor aiutami il CD32 consolezzato il è sparito Igor adesso non so dove è il dato comunque dovrebbe essere il cubo CD32 cubo che era una CD32 ah si lo sta mostrando quella è l'amica CD32 no non riesco a vedere cos'è? è un'amica CD32 no? si è un'amica CD32 con collegato un connettore JAMA in modo che la si potesse utilizzare per e nei cabinati e è molto particolare come cosa sono state realizzate veramente poche unità c'è stata una piccola produzione di software ecco esatto quella lì che è Igor è molto carina come cosa e comunque era bella perché comunque non smetteva di essere un CD32 quindi su un qualsiasi cabinato potevano girare tutti quanti i titoli del CD32 ok si esatto esatto e sono sempre provato affascinante come cosa solo che fino a qualche anno fa che non dico che te li tiravano dietro ma con qualche centinaia di euro le potevi prendere adesso già è fatica riuscire a prendere un CD32 sotto i 400 euro un cubo figurati è ancora più difficile il cubo CD32 è sempre stato un po' più alto nel prezzo e adesso è diventato anche più difficile da trovare qualcosa spunta fuori ma ho visto delle cifre che fanno caponare la pelle però come cosa che finna perché chi volesse ha un cabinato a casa con un connettore JAMA può tranquillamente giocarci se uno gli interessa, se uno gli piace perché sappiamo benissimo quante polemiche ci sono attorno al mondo del CD32 comunque poter giocare tutto quanto il parco titoli del CD32 tra l'altro adesso con tutte le nuove tecnologie che secondo me ci sono alcune cose molto affascinanti e interessanti puoi dotare di una compact flash il CD32 in modo da poter utilizzare il parco titoli praticamente completo sia dell'Amiga 500, 1200 e anche addirittura il CDTV e su un cabinato è una cosa che non si vede tutti i giorni secondo me è una cosa molto carina Ok, molto interessante io queste cose so poco perché CGS che ho fatto anche una piccola recensione della ditta bolognese tra l'altro Sì, bolognese che tra l'altro dove lavorava mi pare Carlo Sant'Agostino se non mi ricordo male Mi pare di sì, sì e quindi le ho fatto un piccolo video tra l'altro dove si vede un CD32 un po' particolare dentro un case di metallo bianco che è poi l'ultima versione la macchina è pressoché identica non cambia assolutamente nulla c'è un'interfaccia inserita nello slot dietro che trasforma la macchina lo porta su un pettine jam lo si può anche alimentare attraverso il pettine jam rimane un CD32 con tutti i suoi problemi che insomma conosciamo del CD32 in più c'è il discorso che stando dentro al cabinato purtroppo le plastiche sono un po' debolucce e le plastiche praticamente si si mettano, si cosciano è una meraviglia quindi spesso questi qui sono più delicati soprattutto quando ti apri lo sportellino ti rimane in mano anche questo ti rimane in mano perché si rompe la plastica sul gancio laterale però vabbè rimangono CD32 giochi ne hanno prodotti appositi però non vi aspettate nulla di incredibile c'è una domanda da voi sopra che dice al giorno d'oggi che Amiga consigli Igor tra la 500, 600 e 1200 per chi ne volesse avere una? mi dipende la Amiga 500 e la 600 sono di fatto più o meno la stessa cosa la 500 base è la prima la UCS poi è trasformata in ECS quindi più o meno più o meno simile alla Amiga 1000 un pochino modernizzata la Amiga 500 Plus e la Amiga 600 sono la versione migliorata della vecchia produzione secondo me la Amiga 600 potevano anche evitare di produrla oggi ha una seconda sua giovinezza per il solo fatto che è piccola è molto piccola è una Amiga 500 senza il tastiere numerico inoltre ha la porta IDE e la porta PC card che possono essere comode oggi come oggi all'epoca non ce ne fregava veramente niente però stiamo parlando delle macchine OCS e CS quindi le macchine con i chipset più vecchio se mi parli del 1200 si va già sull'AGA quindi 1200 CD32 Amiga 4000 siamo già sull'AGA e quindi sul chipset più moderno come prima macchina io consiglio sempre il 500 dicevi Matteo no è molto meno compatibile io Igor lo sa benissimo ho tanti amici che dicono finalmente ho comprato l'Amiga 1200 e poi dopo non ci gira niente di tutti i giochi che avevo dell'Amiga 500 effettivamente il parco titoli dell'Amiga 500 dà un po' di problemi sull'Amiga 1200 c'è qualche stratagemma mi inserisco un attimo perché vorrei approfittare per ringraziare Igor che mi ha supportato tanto su una decisione che mi ha riguardato anche me lui è stato al tempo con me fu chiarissimo hai floppy vuoi giocare non vuoi avere problemi l'Amiga 500 tanto l'Amiga 500 tutti quanti i titoli più belli girano sull'Amiga 500 se vuoi invece avere una macchina un po' più performante con cui divertirti e fare un po' più cose indubbiamente è un'Amiga 1200 infatti con l'Amiga 1200 inserendo una Compact Flash un Got eccetera eccetera io riesco a farci girare i giochi dell'Amiga 1200 dell'Amiga 500 ma addirittura anche i giochi del CD32 e del CDTV e come diceva prima appunto Igor bisogna vedere uno che cosa vuole fare dove vuole arrivare ok dobbiamo fare un piccolo distinguo mentre la 500 se io gli metto un Gotek diventa praticamente una macchina da gioco dove te puoi anche non usare i floppy usare una pennina USB e gli ADF un'espansione quindi con poco e nulla giochi che è una meraviglia il 1200 per fargli fare quello che dice Matteo bisogna assolutamente andare a metterci dentro vabbè a parte un'espansione di memoria quant'altro ma quella lo possiamo vedere dopo ma di sicuro un hard disk quindi una porta bisogna metterci qualcosa nella porta IDE perché molti giochi partano sì è vero ma sono VHD Load cioè sono oggetti che partono col sistema operativo non col semplice floppy quindi il 1200 è un po' più completo ti diverti molto di più perché secondo me ti diverti di più entri di più nell'ideologia di Amiga capisci di più il sistema operativo molto più divertente ma molto più problematica virgolette poi insomma non è che stiamo parlando di macchine della NASA che sono compiute abbastanza semplici sì 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 volevo dire che ne sto mostrando qua delle delle l'hardware come hai detto prima perché cioè adesso approfondiamo però magari questo tipo di domande mettiamole alla fine perché comunque riguarda le console cosa volevi far vedere perché non lo vedo no sto facendo vedere il base hardware list sì le console che c'erano no volevo dire so che Matteo gli piace il Jaguar penso anche anche a te Igor infatti c'è una tua foto sempre su Igor no non parlare di Jaguar con Igor perché viene a casa ti metti le mani in faccia ah sì perché? non lo so Igor penso che faccia parte di quella famiglia un po' ristretta di Matti in Italia che apprezza tanto e ha sempre una buona parola per il Jaguar siamo io e lui Federico Gori e i ragazzi dei brain food e qualche altro pazzoide tutte le volte ne viene sempre fuori qualcuno anche in queste dirette qui che ha brutte parole sia per il Jaguar sia per noi che lo sosteniamo come hardware ma molto spesso che neanche l'ha mai trovato però vorrei dire una cosa io anche quando abbiamo fatto con i Gori la storia del Jaguar abbiamo parlato di come funziona dei problemi e quant'altro abbiamo sempre messo le cose molto onestamente non abbiamo mai detto che è la macchina incredibile che deve che sconfigge tutti e qualchiunque è una macchina che ha dei problemi è una macchina che ha avuto un successo basso l'abbiamo sempre detto il problema è che la gente purtroppo mi dispiasce che si ferma ah ma hanno detto che era 64 bit ma non è 64 bit si ferma ma l'hanno sentito dire esatto e lì si chiude si chiude tutti gli argomenti e se per questo anche l'incast dicono è un 128 eppure non è un 128 però anche la PSD è uguale che gli fa cioè è difficile comunque nel mondo arcade è stato utilizzato tra l'altro ripeto sempre che Atari Corp che era quella che produceva il Jaguar e Atari Games che è quella che ha prodotto Area 51 quindi il Kojak sono due ditte diverse sono separate non avevano proprio nulla in legame quindi vuol dire che l'Atari Corp ha venduto la tecnologia da Atari Games e Atari Games per fare il primo Area 51 ha praticamente seguito quello che doveva essere il progetto base chiamiamolo così perché ci affischiavo dentro il 68.020 cosa che invece nel Jaguar non c'è e poi a un certo punto ha anche inventato la memoria stiamo parlando di un gioco abbastanza famoso che ovviamente è uno sparatutto su binari comunque si comporta molto bene in realtà mi sembra che sia andato prima Maximum Force e dopo Area 51 comunque sono due giochi molto molto gettonati ci sono stati anche dei prototipi giochi prototipi che poi non sono mai usciti che però si sono trovati le ROM quindi mi sembra che su mamma siano emulati uno era quello del Fins che praticamente era la pesca i Fishing Friends quello lì sì esatto che si vede l'amo che scende giù e pesci sotto e poi ce n'era un altro non mi ricordo ora come cavolo si chiamava Frizz poi c'è Maximum Force Maximum Force e Area 51 sono usciti poi c'è un altro gioco che è un puzzle game che dovrebbe essere Frizz sì sì Frizz è quello lì questi sono due Fishing e Frizz non sono mai usciti perché sono rimasti a livello di prototipo c'è scritto che non hanno l'hard disk soltanto la ROM sì vanno solo ROM quindi praticamente sfruttano anzi no in realtà ce n'errebbe essere un terzo sai forse un gioco di combattimento ho visto la scheda mi è venuta male lo stiamo mostrando è mostruosa è fine di mostruosa vabbè è un gioco mi sembra in più che era quello di combattimento forse sì è Vicious Cycle ok quello c'ha degli spondi ovviamente sono filmati comunque c'ha degli spondi in movimento mentre i due i due lottatori combattono davanti molto 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 bello molto molto particolare sì la scheda è abbastanza folle però diciamo che di base è un un Jaguar un pochino più pompato perché per esempio in uno hanno messo 68.020 in un altro hanno messo invece mi sembra si chiamasse S300 comunque un altro processore poi vabbè l'hardware non sto a discutere come funziona tutto il resto se no si ricomincia da capo processore quando lo dice ti dice soltanto 68.020 ma vabbè no dovrebbe esserci anche l'R300 sì R300 sì sì c'è anche quello la revisione 2 sì di R51 gli altri non lo dicono io di questi qui ho Maximum Force che è praticamente il Kojak prima versione ok ma anche anche Matteo ha il suo Kojak ce l'ha? oppure no? non so cosa ha fumato Igor stasera il Jaguar CD poi era un'unità abbastanza particolare e tra le altre cose c'è anche da dire che è stata non è stata ancora emulata non riescono a emularla in modo perfetto quindi per il momento non è emulato la versione ma io chiedo che sono conosco molto poco e stavano pensando ma non si sa quanto vero possa essere che lo volevano integrare anche nel Kojak purtroppo non ci sa non ci sa molte informazioni su questa cosa qui ok ma chiedevo per il Jaguar CD sono usciti dei giochi specifici o sono gli stessi però messi su CD? non lo lascio a Matteo sono gli stessi messi su CD pompati con musica da CD o con animazioni ok tipo il Neo Geo CD diciamo tipo il Neo Geo CD una cosa del genere Neo Geo CD Jaguar CD dice tipo non mi sento bene ah non mi sento bene tipo il Neo Geo che poi hanno fatto Neo Geo CD li hanno messi su su CD hanno seguito la moda del CD è la ragione per cui molti hardware si sono buttati su CD solo e soltanto per una moda per cercare di prendere ancora una fetta di mercato in realtà Matteo si sta scordando che sul Jaguar sono usciti dei giochi che su cartuccia non ci potevano essere un Dragon's Lair uno Space Ace no no io parlo di quelli convertiti Igor vabbè il Jaguar la macchina non capita dice voiceover e poi Smoking Emulation dice il Jaguar CD è forse l'unica console che non viene emulata o non si riesce infatti l'avete appena detto voi ok bene ma infatti l'ho appunto tirato in causa perché parlavo degli arcade sapevo che era un argomento su cui c'è un po' di sintonia un po' di scontri mi piaceva puoi vedere un'altra macchina strana l'è il 3DO nel mondo arcade perché praticamente c'è una macchina sola perché l'altro è un prototipo eh c'è Atari 3DO Prototype e Konami M2 Konami M2 praticamente sarebbe la macchina che non è mai nata come console ma che esisteva che poi la Matsushita Panasonic non tira mai fuori bisogna fare uno speciale su quella ma che ci sono dei giochi piuttosto carini soprattutto di combattimento oppure giochi tipo quelli di a pistola insomma eh tipo Evil Knight esatto esatto che poi è una un riproporre gli stessi schemi di Resident Evil The House of the Dead è The House of the Dead infatti mi sembra molto simile è praticamente un clone ah c'è è su un CD sì sì gira su CD però ha tutto un sistema di protezione quindi deve avere il gioco su CD il timekeeper con il programma interno che riconosce se il gioco è quello o no in alcune versioni ha un audio diverso quindi ha una scheda audio in più o in meno cioè è una macchina un po' complessa ho fatto vedere in un video comunque in teoria si potrebbe far girare tutti questi titoli che vedi qua su un'unica macchina c'è il Total Vice Total Vice poi c'è Polistars Total Vice vai giù? no Total Vice è l'ultimo come dice poi c'è sopra c'è Polistars Ito V-11 sembra calcio quello è un gioco che se te lo vedi ti viene mal di stomaco se non ti sei abituato cioè è un gioco in continuo movimento ma in tre dimensioni è impressionante come si muove ma Polistars o Ito V-11 Polistars si infatti sembra sembra stranissimo cioè è un grande sparatutto uno sparatutto ma sembra sembra uscito dalla mente di uno che ha fumato stranissimo è stra creativo poi c'è un calcio che da noi è arrivato che praticamente penso che l'abbiano visto in tre non è un brutto calcio infatti non c'è neanche una foto decente soltanto una foto un po' più sbiadita così si ho il video ho fatto il video io di quel gioco lì non è male anzi fa vedere anche un po' le potenzialità della macchina e poi c'è il Battle Twist se non mi ricordo male che è praticamente un combattimento e il Battle Twist invece si vede abbastanza bene la potenzialità della macchina purtroppo questi sono gli unici titoli che fanno uscire nel mondo arcade perché l'accordo era prima fai uscire dei titoli nel mondo arcade poi io faccio uscire la M2 come macchina console e magari faccio qualche qualche conversione che poi conversione non è di questi giochi per il mondo home questo non succede succede solo di vedere i giochi arcade e festa finita invece del prototipo sempre da 3DO ci c'è Bivis Embatted esatto quello è proprio un 3DO devi sapere che il 3DO in realtà è finito dentro anche agli American Laser Game quindi Almeddog, McCree e quegli altri e sull'FZD1 se non mi ricordo male viene messo un BIOS aggiuntivo stessa cosa è successa anche a questo dell'Atari per fare in modo che potesse girare solo nel mondo arcade e hanno fatto due titoli tra l'altro questo gioco qui il Bettis si trova tranquillamente perché hanno trovato tre macchine funzionanti una è in una sala giochi in America che ci puoi giocare quanto vuoi e un'altra invece in mano a un collezionista la terza non me lo ricordo ma hanno fatto il dump del gioco quindi mi sembra che sul mamme si possa giocare ok l'altro titolo invece credo che sia rimasto ancora ancora film si non dice niente no non mi sembra non ci sia niente ancora muori feccia aliena il titolo Die Agents Come si sa neanche l'anno 1900 non si sa 90 non si sa precisamente non dovrebbe essere 97 comunque non c'è scritto l'altro del 96 e poi no invece per quanto mi riguarda guardavo le macchine un po' più recenti vabbè la Playstation 2 c'è un sacco di versioni per la Playstation 2 nel mondo arcade continuativa è molto lunga infatti vedo e anche la Playstation 1 c'è tante versioni si abbastanza la Playstation 1 la Playstation 1 è la più famosa è Tekken Tekken il primo o il 3? Tekken e Tekken 3 è il Namco System 12 per caso? su quale? dove c'è il Tekken 3? il Tekken 3 è sul Playstation 1 eh però in PS1 c'è scritto i titoli viene chiamato Namco System eh infatti me lo mette qua si dipende c'è perché dipende chi la tirava fuori se era la Namco la chiamava Namco System ma poi sempre Playstation 2 era e Playstation 1 2 era e c'è anche Tekken Torn che io non ho mai capito perché cioè mentre è Tekken 3 adesso non ho mai capito è uscito prima la versione arcade o per PS1 arcade ecco e invece il tournament stessa storia o è uscito prima sì sì sempre prima l'arcade perché l'arcade ha una grafica molto più grezza della versione casalinga della PS2 Tekken 3 più grezza rispetto a no no il tournament che è della 2 sulla console casalinga si vede cioè il Tekken Tornament arcade sembra più da PS1 mentre quello casalingo ha una grafica sono neanche gli stessi programmatori sono anche cambiati mentre Tekken 3 Arcade Tekken 3 Arcade e PS1 praticamente identico Tekken Tag semplicemente per cavalcare l'onda del momento secondo me rimane Tekken 3 o la piatta miliardi di giochi certo 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 non diciamo solo un po' un miglioramento grafico con più personaggi niente di che bene niente eravamo arrivati adesso ci sono sempre sempre 7 spettatori allora per i buon Matteo quale delle tue console sei particolarmente affezionato distanchemente io ho passato veramente tanto tempo sull'amiga l'amiga sono sono stato prima affolgorato dal mondo Commodore con il Commodore 64 e quando c'è stata la possibilità cercando di convincere i miei genitori che sarebbe stato un computer usato solo e soltanto per la scuola ho fatto comprare l'amiga ed ero talmente sono talmente ma al tempo ero talmente fanatico di amiga che mi ricordo che andai tutte le volte che usciva un modello nuovo a trovare un lavoretto estivo per mettere i soldi da parte e in maniera forse stupida comprare poi il modello nuovo di volta in volta che usciva infatti ho avuto l'amiga 500 500 plus la 600 la 1200 se ci pensi era una cosa abbastanza insensata rivendendo il vecchio modello però l'amiga è stato veramente importante perché poi alla fin fine giochi a parte è stato veramente il mio primo computer qualche cosa avevo cominciato a buttare giù con il Commodore 64 però con l'amiga 500 si è cominciato a fare la grafica a comprare la prima stampante Paint Shop Pro e poi la musica e anche i primi fogli di calcolo un database per i vinili le musiche cassette i giochi i flopini penso che tutti quanti hanno un bel ricordo degli amici che ti prestavano i flop e con i copy ti facevi le tue copie pirateria permettendo pirateria a parte perché comunque i giochi originali li compravo li ho comprati e molti li ho ancora e sono stati degli anni veramente splendidi passati con Amiga si guardava naturalmente anche ciò che ci circondava quindi il passaggio del mondo delle console da 8 bit e 16 bit e mi ricordo che una delle cose che mi ha sempre dato fastidio è di come non si sia mai investito da parte degli sviluppatori di Amiga e nei giochi che sfruttassero due o più pulsanti e guardavo con Nvidia le console bastavo a vedere anche comunque un Master System o un NES che con due pulsanti già facevi tantissime altre cose poi ci furono alcuni che programmarono titoli che avevano la possibilità di sfruttare questa cosa ma poi finché non siamo arrivati all'Amiga 1200 il CD32 non c'è mai stata la possibilità di usare più di un pulsante con la maggior parte attenzione non voglio fare di tutto l'erbo un fascio con la maggior parte di giochi per amico però ancora adesso ancora adesso secondo me è pelle d'oca perché quando parli di trilogie come Turricane sono nate su Amiga giochi che sono nati in esclusiva come le avventure grafiche della LucasArts i Monkey Island gli Indiana Jones dopo ci furono delle conversioni su altre macchine la prima che vieni in mente la FM Town Martey ma sono state tutte quante saghe nate sulla macchina di casa Commodore e poi tantissimi altri giochi Another World Flashback Lionheart la serie Lotus secondo me è stata veramente una macchina straordinaria e ancora adesso è sempre presente e pronto ad essere utilizzata nella mia postazione perché ancora è veramente tanto bello giocarci ho capito interessante volevo volevo chiedere una cosa dopo continuiamo il discorso delle console perché vedo che le persone interessa molto voi fino a che ora avete tempo avete ancora tempo un'oretta cioè facciamo due ore o dovete andare prima io intorno alle 19 avrei un impegno ok vabbè ragazzi vengono dei parenti a casa a mangiare ok allora Matteo prima che vai voglio sapere la tua esperienza un po' nella sala giochi se vuoi raccoltare qualche aneddoto qualche cosa oppure qualche macchina che particolarmente ti ha colpito oppure come vivevi l'ambiente della sala giochi insomma qualsiasi cosa inerente all'ambiente beh io sono fortunato da romagnolo penso di aver vissuto veramente tutto lo sviluppo della riviera romagnola per quelle che riguardava la sala giochi io sono un 72 e ero veramente molto piccolo quando si andava giù al mare tant'è che la maggior parte dei giochi nelle prime sale giochi erano tutti quanti elettromeccanici c'era il cavallino con la pistola dove devi sparare e i primi flipper però i primi giochi i primi videogame li ho vissuti li ho toccato con mano e ho dei raccordi meravigliosi in campeggio c'era il bar del campeggio che aveva Scramble che ancora adesso è uno dei miei giochi in assoluto preferiti è sciogliato un po' scorrimento storico oppure nel bar della spiaggia ero lì quando portarono Space Invaders parliamo veramente di tantissimi anni fa e da noi comunque in Romagna ancora adesso c'è una realtà di sale giochi che soprattutto purtroppo con il lockdown con il covid hanno avuto l'ennesima ammazzata però resistono e chi viene ancora adesso riesce a divertirsi parecchio perché se ne trovano ancora con tanti giochi che sono i classici cabinati i flipper più o meno moderni Rimini Riccione ci sono delle belle realtà ma anche Cesenatico Milano Marittima qui un po' più vicino dove abito io io sono di Forlì quindi arrivo molto prima a Cesenatico Milano Marittima ho dei ricordi anche molto belli però delle sale giochi appunto del Forlìvese dove mi ricordo che si faceva letteralmente la fila per giocare ai giochi con le pistole quindi Virtuocop in primis oppure qui da me vicino a casa mia c'era questo bar che il proprietario era piuttosto appassionato di cabinati lì sono girate alcune cose che mi sono rimaste molto nel cuore come Tetris oppure un altro bellissimo gioco che era Black Tiger non so se hai presente un clono di Ghost & Goblin diciamo è uscito dopo il successo di Ghost & Goblin e tutti quanti i cabinati in cui ci sono state lasciate in un sacco di soldi se devo dire qual è il cabinato che mi è rimasto più nel cuore allacciandomi alla domanda di prima per quel che riguarda le console ne approfitto il cabinato che sto cercando ma ormai è diventato inacquistabile è quello di Tron perché penso che come tutti i ragazzini della mia generazione Tron sia rimasto nel cuore a tutti quanti con un film veramente straordinario avvantissimo Disney creò secondo me un capolavoro c'era un bar che aveva questo cabinato non fra forse i più giocabili giochi e arcade che ci fossero stati però era veramente molto bello era molto bello il cabinato che aveva la manopola che ricordava molto quello del motolabirinto nella sala gioca di Flint aveva il rotore il potenziometro per poter fare poi dopo altre tipologie di giochi era un cabinato che ne aveva 4-5 diversi quindi avevi carri armati avevi il motolabirinto e queste altre cose così e poi di per sé proprio il cabinato era molto molto psichedelico con questi led blu rossi veramente una macchina straordinaria e ho visto che è riproposto dalla serie arcade one up che non mi fanno impazzire ma se si riuscesse ad avere quel cabinato con una cifra un pochino più abbordabile anche se non è proprio l'originale l'originale sarei piuttosto sarei piuttosto felice lo sto mostrando sembra wow ah questa è la versione arcade one up si lo vedo bello invece questa è la versione originale 6900 dollari vintage arcade no l'originale l'originale si si questo è l'originale vintage arcade super questo qui c'è l'arcade one up lo riconosci dalla base sotto vedi e invece quell'altro si è questo qua che c'è la base vera si si c'è la basina sotto anche questo qua siamo sempre sui 6000 dollari questo originale mobile è molto bello no invece io io non so perché dalle volte c'è quella tradizione lì che appunto lì sul mare anch'io quando andavo lì al mare con i miei nonni vabbè io parliamo degli anni 90 era il 99 c'era Metaslug 3 ci passavo le giornate Metaslug 3 che tra l'altro ha il titolo più lungo della serie di Metaslug l'ultimo livello non finisce mai vabbè a noi te la puoi togliere ancora bene la voglia di cabinati assolutamente ripeto dopo il corte hanno chiuso ma altre che hanno resistito e ancora adesso quest'estate ero giù e credimi ero a sono andato a Cervia e Pinarella e non sono riuscito ad entrare in una sala giochi per la gente che c'era dico solo questo non ci sono solo quegli stupiti odiosi giochini dove ti danno il premio con i bigliettini ti parlo di tutti quanti anche quei cabinati che hanno una certa età e c'era la fila questa cosa secondo me è molto molto bella mi ha fatto veramente piacere e appunto di tutte le età sì 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 beh io anche lì io vado anche come si dice in la forza dei marmi c'è una sala giochi carina non ha tanti titoli però ha della roba Naomi tipo Zero Gunner 2 quindi ho sparato sulle map perché io ci giocavo sempre tra l'altro sono arrivato anche avanti mi ero segnato nella lista dei punteggi il mio nome e poi c'è anche non so titoli come Point Blank come Pistole vabbè il Virtual Tennis insomma e funzionati quindi qualcosina si trova però dalle vostre cioè sul mare ci sono sempre a qualche parte invece all'interno è dura cioè da Parma però io conosco che erano all'interno quindi Forlì Cesena Bologna sono tutte quante chiuse non ho più visto niente eh ma comunque fa sempre piacere sempre piacere e poi l'altro che mi piaceva molto all'epoca era The House of the Dead che mi ricordo che è stato il primo cabinato con cui ho avuto contatto avevo cinque anni sono andato lì a un bar del paese vicino e c'era solo questo cabinato e mi sono messo lì non c'erano neanche con le pistole non capivo c'erano sparati i primi colpi poi diceva shoot on stage screen per caricare il mio bambino non lo sapevo non capivo più come sparare morto dal primo zombie vabbè comunque sono esperienze che ti restano esperienze magiche non c'è niente da dire ci sono delle domande ci sono delle domande dopo facciamo parlare Igor dopo quando Matteo devi andare me lo dici cioè leggo solo queste domande ma Turrican non era nato sul Commodore 64? no per me era nato su Amiga era nato per me è successo dopo una conversione per il Commodore 64 non mi ricordo sinceramente Igor Turrican se non mi ricordo male è nato sul 64 non lo so sul 64 penso di non averlo mai giocato posso andare a vederci un attimo Turrican Game of the Box vediamo un attimo Turrican esce nel 90 sulle computer nel 91 sulle console 92 sul CDTV ok però non dice su quale computer per primo ma sai ci sta probabilmente c'era ancora un grande parco titoli di Commodore arrivò l'Amiga lo facevano uscire in contemporanea un po' come facevano anche con l'Atari ASP facevano uscire tutti quanti i giochi contemporaneamente adesso è uscito se uno vuole guardare una meravigliosa conversione di Turrican in Aga per Amiga Amiga 10002 e hanno fatto un lavoro straordinario penso che sia anche gratuito scaricate la DFL vi fate un floppettino lo mettete su dove vi pare godetevelo perché è veramente molto bello sì comunque dicono che era prima su Commodore 64 ah ok dicono così e poi altra cosa dicevano Scramble anche per me il primo arcade a cui giocai era nel bar sotto casi giocavo quando avevo 10 anni poi Ghosts and Goblins perché l'arcade per eccellenza Tron era se qualcuno è così sfortunato di avere un Amstrad CPC on GX 4000 qualche anno fa un paio di anni fa è uscita una conversione di Scramble che è un piccolo capolavoro hanno fatto una roba straordinaria per l'8-bit di casa Amstrad giocabilissimo quasi arcade perfect da una grafica da una giocabilità straordinaria e chi ama questo titolo se cercate lo trovate anche in una versione anche qui splendida per Vectrex veramente bellissimo Poi Ghosts and Goblins era che per eccellenza Tron era difficilissimo un camminato bellissimo e Voisover dice che è del 78 il camminato però che l'ha più lasciato a bocca aperta è stato Killer Instinct audio e grafica a parola Ah lui è del 78 Sì 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 Eh Killer Instinct ce l'ho qua dietro acceso che sto mostrando Killer Instinct sul mio camminato ma c'è la webcam che non mi va se no l'avevo mostrato dovete regalarmi parlo ai iscritti se volete farmi un regalo datemi una webcam anche scrausa però che non si blocca non so perché si blocca la webcam vabbè a Cesenatico c'è ancora una bella sala giochi di cabinati vabbè ok sono quasi le 7 cosa fai Matteo resti ancora o no no sto aspettando che mi chiami ah beh ok quando mi dicono allora Igor vuoi dire la tua esperienza se no andiamo avanti andiamo rimasti molto semplice io l'ho già raccontata tante volte io in sala giochi ci sono sempre stato però il gioco che ricordo con più affetto è quando tornavo indietro dalle medie e mi fermavo a un bar che aveva Ghost in Goblin e l'avevo ovviamente in un mobile di quelli pronto scheda quindi sicuramente non era di quelli originali e noi ci si fermava lì a volte ci si schiacciava anche due ore e quindi non si riusciva neanche andare a mangiare perché si saltava tutto poi si tornava a casa genitori incapperati ma parli di Ghost in Goblin quello dell'85 sì perché io invece questo non riesci a finire Ghost in Goblin Igor io non riesco a finirlo io sono riuscito prima a finirlo con un omino solo con una partita sola cioè con un personaggio solo ora non mi riesce più perché è maledettamente difficile cioè tu fai i primi sei schemi poi ritorni indietro sono più difficili e fai gli altri sei schemi io invece questo l'ho giocato molto poco ho giocato Ghost in Goblin questo il Ghost in Goblin in qualsiasi incarnazione ci sia quindi console computer arcade è un gioco maledettamente difficile sì io ho giocato il preciso per poterlo finire io ho giocato il Ghost in Goblin dell'88 della Capcom quello lì è quello che l'ho finito una volta o due la prima ondata diciamo il primo round se si era a fare il secondo diventa veramente sono d'accordo però il primo rimane secondo me rimane negli annali perché veramente questo se lo metti fuori ci giova sempre qualcuno che poi è quello che è nato sul NES o sbaglio sì l'hanno messo anche sul NES invece Ghost in Goblin mi sa di no forse sullo SNES mi sembra che sia sullo SNES oppure sul Megadrive forse tanto qui ho visto una versione che non ho mai visto dell'89 della non è della Capcom ma è della aspetta della Siga Siga Megatech mai sentito Ghost in the Ghost dell'89 della Siga Megatech poi c'è anche la versione dell'88 e la Capcom è praticamente il Megadrive ah ecco è la versione Megadrive sì sì allora ho capito infatti è diversa anche la grafica è tipo non ci sono quei rapaci avvoltoi sono diverse vai a vedere l'hardware di quella JJ c'è una scheda con tante cartucce sì esatto lo sto facendo vedere Megatech se ogni che le cartucce non sono compatibili con il Megadrive e viceversa sì sì Megatech Megatech sì sì è vero se io ci metto lì una cartuccia del Megadrive pum c'è scritto they are not compatible with the Genesis console sì 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 infatti ci stanno otto cartucce otto slot sì che poi hanno fatto anche una cosa simile hanno fatto anche con il Master System una cosa simile hanno fatta con il Famicom che poi si chiama Play Shows sì sì non è una cosa una cosa nuova nel mondo del coso quindi perché i noleggiatori cercavano sempre di trovare un qualche modo che un cabinato potesse avere più titoli e che quindi non si esaurisse in un titolo soltanto o comunque sia facilmente intercambiabile un gioco motivo per cui nasce il Neo Geo soprattutto è questo la possibilità di intercambiare con relativa poca spesa un gioco in un mobile certo certo infatti dicono che Ghost & Goblins difficilissimo un po' la nostra generazione un capolavoro io ce l'ho in versione arcade msx e anche nuova versione per playstation ma la versione arcade è sempre il suo fashion intramontabile questo è il Play Shows questo qua sì lo stavo facendo vedere che tra l'altro c'erano due versioni cioè ci sono due link non capisco perché sono due versioni uno era il Play Shows 10 e l'altro è il VUS ok allora il Play Shows 10 se no un po' di titoli ah sì questo menu verde lo conosco e poi era fatto un mobile su due monitor il menu verde stava sopra stava sopra anche sì ah sì 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 due monitor e quello più piccolino sì monitor normale sotto e monitor più piccolino sopra sì 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 infatti si vede nell'immagine e fa vedere che quello verde sopra non è proprio verde ha colori però insomma diciamo di solito faceva colorini e c'era un'altra cosa che volevo chiedere riguardo beh il ho riscoperto il Demon Front perché io sono appassionato di Metaslag è una bella è un bel gioco è anche una bella macchina che non sarebbe la versione cinese del Neo Geo oppure sbaglio diciamo che è nato per contrastare il Neo Geo però più che altro per il mercato interno è una versione diciamo come caratteristiche che gli assomiglia molto al Neo Geo come hardware potenzialità però l'hanno ci hanno lavorato praticamente software house praticamente interne comunque hanno tirato fuori dei titoli interessanti Demo Front è uno di questi sì che lo trovi qui su Other sì sto guardando su Other lo trovi tra l'altro è uno di quei titoli che vanno a comprare adesso la PGM giusto Poli Game esatto sì sì infatti sembra la base Neo Geo sembra sì sì anche le cartucce sì ora ce l'ho giusto non ve le facevo vedere sono molto simili simili non uguali sì sì sono simili e meravigliosamente rosse sì hanno questo ecco le sta mostrando Matteo non ho la base che è riparazione forse ce l'hai io ce l'ho io una base sì è che purtroppo ha perso acido quindi ogni tanto mi dà dei problemi comunque vabbè c'è c'è la base c'è la base di Matteo sì no c'ho il GM mio ah ma e te Matteo come ci giochi con cioè ci giochi o li tieni la tua una base consolizzata ah ok ma non è la Super Gun è proprio la base consolizzata sì è modificata quella lì ma anche la Super Gun Gun ma la base consolizzata è indubbiamente molto più comoda ci colleghi joystick del Neo Geo uscita video alimentazione e via andare le Super Gun sono sempre scomodi perché devi attaccare la Super Gun è un po' un po' un po' tritta ecco e comunque sì la PGM è veramente una bella una bella cosa non ha un parco titoli grandissimo però ci sono sì sì soprattutto i giochi di combattimento a scorrimento oppure gli shot and up io questo qua l'ho giocato io sul campionato l'altro giorno perché avevo visto la tua live Igor che dicevi che c'era di sprite enorme infatti poi c'è completamente pieno lo schermo di proiettili non sai mai dove andare bellissimo secondo me questo è meraviglioso è scaluda e sì se a uno non gli piacciono i bullet hell cioè quelli con gli schermi tutti quanti pieni di proiettili lasciate stare su PGM però se uno impara un po' a giocarci sono dei giochi straordinari bellissimi anche Dodon Pashi è veramente incredibile bellissimo sì un'altra di colpi però insomma come Igor una gragnolata di colpi che ti cascono addosso però insomma ma guardi io sono sempre stato un grandissimo appassionato di shot and map a scorrimento orizzontale verticale e non ho mai mandato giù i bullet hell proprio perché mi sembrava quasi uno spreco avere tutta quella grafica meravigliosa ma tutto devi concentrare il sonne soltanto su grappoli di proiettili da evitare e invece proprio con la pgm ho imparato ad apprezzarli e ne ho due tre quattro e sono bellissimi e una volta che impari un po' a giocarci che impari un po' le dinamiche di gioco ti cominci a godere come per esempio ho anche giochi come gigawing uno e due che potete trovare su Dreamcast e anche quelli inizialmente erano una cosa di veramente in cazzereccio perché vedevi una grafica meravigliosa ma non te la potevi godere perché altrimenti non andavi avanti poi dopo con il tempo con il tempo con il tempo io ho cominciato ad apprezzarli però non sono giochi per tutti sono piuttosto molto da come dire da otaku fanatici giapponesi perché bisogna essere bravini per giocarci molto schillati io per esempio già i livelli di Blazing Star del Neo Geo lì è tosta nel senso che fino ai primi quattro livelli riesco anche a non morire dopo però no però i giochi classico cinese come come Hosea come quello delle tessere lì sì quello delle tessere che ci avevo mostrato prima dici sì adesso stavo guardando il quello che ha detto Matteo del Dreamcast com'è che si chiama come hai detto prima Gigawing ma non è per Naomi giusto solo per Dreamcast c'è per Atomiswave allora lo metto qua infatti sto guardando se for fare volevo far vedere se c'è la versione arcade ma qui Gigawing non lo fa vedere su Atomiswave non lo so comunque per la Dreamcast c'è volevo far vedere ah sì c'è Gigawing 2 per il Naomi e c'è anche Gigawing di dov'è questo Gigawing è sul CPS System 2 ci può stare mi risulta sì il primo è sul CPS 2 sì il primo sì il 2 dovrebbe essere sui Hosea il 2 è sulla Naomi sì sì è del 99 e poi c'è anche Gigawing Generations del 2004 che è sul Taito Type X che è un PC cioè l'architettura PC sta facendo vedere adesso CPS 2 no il Taito Type X il Gigawing Generations non so se lo vedi nella live il Generation io non l'ho mai giocato io sono giocato uno e due però questo mi sa che sia che credo di avere Dreamcast questo qua dovrebbe essere però PC cioè è un PC questo qua non deriva da nessuna console il Gigawing ah sì ho capito il Type il Type X è un PC sì sì lo faccio vedere adesso cioè Gigawing Generations del 2004 però non sembra così bello come gli altri sembra meno curato non so impressione questo computer beh sì 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 infatti ve lo sarà qualche domanda no ancora nessuna domanda ci sono sempre sette spettatori secondo me questa sta piacendo niente allora stai continuando un discorso Igor non mi ricordo ma sai poi nel sala giochi ci sono entrato tantissimo proprio per dare la caccia al Laser Game io rompevo le scatole a tutti i noleggiatori per sapere in dove erano le macchine molti mi mandavano ai paesi dei balocchi uno solo mi rispondeva sempre ma adesso quelli che hai desiderato cioè che li sei desiderato ce li hai tutti ce ne manca qualcuno quelli che mi piaceva avere ce li ho il mio principale era Super Donkey Shot ed è stato ce l'ho il secondo era Dragon Slider Space Ace ce l'ho poi mi sono cascate fra le mani il Fire Force e l'Interstellar e devo dire che sono contentissimo e tra le altre cose ho anche un Don McCree il Cliffhanger ha una storia un po' strana diciamo che me l'avevano presentato per dirmi guarda questo lo buttiamo via perché è stato 8 o 6 anni non mi ricordo sotto l'acqua quindi alle interperie se lo vuoi te lo portiamo se no non lo buttiamo via a me dispiaceva perché comunque era un Laser Game e quindi me lo sono fatto arrivare era in condizioni pietose era aperto bagnato c'era un po' tutto da sistemare l'hardware funzionava funzionichiava abbastanza bene anche se ci dovevo mettere un po' le mani il legno ha dovuto rifarlo tutto ora per esempio avrebbe bisogno di un secondo restauro il mio Cliffhanger e l'ho riportato in vita e poi mi ci sono affezionato alla fine mi ci sono affezionato questo Pendon Quixote invece è legato molto al fatto che noi si andava io e un mio carissimo amico tra l'altro si giocava proprio al mobile originario quindi quello bianco che sembra un frigorifero lo sto mostrando secondo me è questo non lo so aspetta adesso metto un attimo arrivare c'è l'immagine di un castello dove c'è i comandi no quello lì è la versione conversione del cabinato di Dragoslay allora è quest'altro che ho messo che c'ha dei comandi blu azzurro dove c'è i pulsanti c'è un sì è più è più squadrato sì lo chiamo frigorifero perché si apre sul davanti cioè praticamente si apre esattamente come apre un frigorifero uguale e accedi facilmente a tutti i suoi interni mentre tutti gli altri mobili si accedono da dietro sì infatti tipo il mio si accede da dietro e il era un gran gioco perché era comunque difficile tra l'altro io so che qui la a parte non c'è più quindi posso dirlo la Maggiaioli aveva provato anche a aumentare la difficoltà e a un certo punto cambiò anche l'epro mettendo quelle a scene corte io comunque lo finivo lo stesso quindi non c'era problema tra l'altro per un lungo periodo ci giocavo solo io quindi erano anche contenti a dirmi dove stava il gioco io gli telefonavo facevo dov'è adesso il gioco ah in questo bar e andavo apposta in quel bar per giocarci magari era chilometro o no sì non importava ho fatto ho girato ho girato mezza Firenze se neanche di più perché poi è finito anche fuori Firenze era un mobile molto strano molto particolare mi piaceva da morire perché poi era altezza giusta perché noi si giocava col panchetto quindi ci si stava a sedere bene davanti panchetto alto e io mi divertivo tantissimo purtroppo è un gioco che poi hanno fatto sparire perché Maggiaioli scomparve fu preso la cosa da un altro io ero lì che cercavo di comprarlo anche se voleva un botto di soldi poi ha deciso di venderlo in Sicilia e vabbè è finito in Sicilia e ne ho perso le tracce però sono riuscito a prendere comunque in realtà ne ho due comunque un kit di questi giochi di Super Donkey Shot che lo volevo mettere nel Drago Slayer quello Atari poi ho deciso di metterlo in quello Sidam perché era il mobile che tra l'altro tra virgolette il Sidam è il mobile che non mi piace cioè è quello che mi piace meno rispetto a tutti gli altri però in quella maniera quando ci gioco mi esalta lo stesso quindi cioè tu dicevi hai la scheda e tutto l'hai messa in un mobile diverso esatto si è fatto una conversione come facevano all'epa come quel gioco lì che ti ha visto con il castello sopra che tra l'altro il castello che hai visto è l'adesivo del control panel del Mr. Do castel ok infatti io prima ho visto che c'era anche un mobile di Interstellar con dentro Super Donkey Shot sì qui in Italia poi soprattutto comunque era utilizzato in mobile Interstellar perché ricordatevi che Interstellar essendo un gioco molto difficile è stato anche un gioco praticamente fiasco e quindi molti l'avevano ma non sapevano bene cosa farci quindi avendo lo stesso tipologia di lettore tra Super Donkey Shot e Interstellar hanno messo dentro il Super Donkey Shot modificando il cablaggio interno sì sì tra l'altro una piccola parentesi volevo dirla così un po' per ridere perché è stata una rivelazione mi ha fatto morire da ridere un parentesi un po' trash guardando Matteo sulle foto dove ho trovato con Goreli in quel forum lì che ho trovato che si chiama i bit i bit i bit i bit i bit sì ecco i bit i bit ci lavorate voi ci scrivete voi chi è che ci scrive no no è un gruppo di amici che stanno facendo un po' che Goreli fa parte dei bit infatti mi sembra sia un canale youtube piccolo ho visto da un po' di media Magnum CDI com'è? non ho capito Magnum CDI ognuno dei bit ha un soprannomo che rispecchia un po' la sua passione nel mondo dei videogame Federico è Magnum CDI e poi dopo c'è Fox Mulder e poi dopo ci sono altri due o tre ragazzi che li conosco di persona perché sono venuti alla Jackfest oppure sono andato io da loro mi ricordo non stanno vicino il peso e il burbino e tanto che non ci si vede però sì sono bravi perché hanno sempre idee nuove da proporre stanno facendo veramente un bel lavoro no ma mi volevo solo dire questa cosa per farlo un po' ridere su quel canale lì ho trovato un video di un gioco che non conoscevo minimamente ma a parte il gioco che per l'epoca non è che potesse essere chissà che cosa è stato il videogioco che aveva la copertina che mi ha fatto morire da ridere più scandalosa immagino che lo conoscete X-Man X X-Man per Atari 2016 sì sì come no c'è favore è di fare un mini torneo a un Jackfest assolutamente per il fatto da un ragazzo del Brain Fusion e diciamo che abbiamo dovuto un attimo controllare che non ci fossero dei bambini però però fa ridere sai perché ci vuole anche un po' di fantasia capire di cosa si sta parlando però c'è anche la vendetta di Custer come lei Custer's Revenge oppure c'è anche Eat'em e Beat'em ah esatto no io conoscevo soltanto l'Overboy arcade non so se avete più vedi sì sono giochi considerati lucidorsi eh no però però ci voleva neanche io però mi va già a ridere perché avevo letto che subito l'avevano venduto a tutti dopo hanno dovuto mettere maggiorenne però subito lo vendevano cioè non c'era limiti in realtà ma l'avevo letto così la storia sì eh e fa ridere che dopo cioè la cosa assurda nella copertina a parte il cioè che c'è la ragazza che è già diciamo una donna adulta però il personaggio cioè sembra un bambino cioè non è così adulto e si mette le mani lì come per trattenersi la cosa strana dice non puoi venderla ai bambini però praticamente è un bambino che sta giocando è molto strano mi ha fatto morire questa cosa hanno delle copertine più più senza senso sì è veramente folle veramente folle cioè poi come quando giocavano lì mi ha fatto morire il video come devi giocare con questo controllo tutto tra ballerino vabbè niente sì ci sono diversi comunque di questo tipo di gioia non è sono tutti convinti che questi titoli qua sono sono roba che sono arrivate recentemente in realtà sono usciti praticamente subito infatti poi tra l'altro una ditta ho visto che ha fatto solo quello non mi ricordo come si chiama però una ditta si chiama Universal Game X una cosa del genere io ora non me la ricordo tutta non me la ricordo ovvero tutta vabbè comunque tra l'altro non sono neanche giochi facili a trovare no no infatti tanto schivo X-Man viene solo fuori roba dell'X-Man proprio zero anche su Google non viene proprio un mercato citturese che ha molti titoli sotto questo punto di vista forse sono forse il Saturn e anche il Laser Active Dora Dora Fais bravo esatto ecco Universal Game X si chiamava si si ci sta Universal Game X pure quell'altro titolo è Virtual Camera ma è giusto sui Laser Active c'è anche sui 3DO se non mi ricordo male sul si sui 3DO esatto e poi c'era Kyushy 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 qualcosa che ha fatto la recensione insieme al mio amico Roberto anche lì devi fare una partita poker uno strip poker però su Saturn o 3DO adesso non mi ricordo erano cose che non è che si vedevano tanto spesso però non è che sono arrivate ultimamente effettivamente quando è uscito fuori l'Atari 2006 sono arrivati fuori subito anche questi giochi anche qui quindi parliamo di ricordo degli anni 80 no non pensavo che così vecchi ci fossero già mi ha fatto una sorpresa ma ripeto è la copertina e il concetto dietro che mi ha fatto ridere perché è contraddittore se tu vuoi ridere vai a cercare i giochi biblici non sto scherzando i giochi biblici per il NES e hanno convertito alcuni giochi sparatutto per fare diciamo giochi cristiani quindi te praticamente hai Wolfstein 3D dove te sei Noè vai in giro con l'arca arrivano queste capre incavolate e te gli dai gli batti in testa qualcosa gli lanci qualcosa per farle stare tranquille è Wolfstein 3D qui non lo so ma c'è Bible Adventures dovrebbe essere questo Bible Adventures sì ma ci sono delle scene un po' non so se le vedete con un maialino una mucca qui ci sono delle scimmie che le sollevi sì quella roba là e ti dico che quei giochi lì nonostante siano giochi cristiani ok sono pirata cioè sono illegali venivano venduti da questa società che era legata poi a movimenti cristiani ma loro non hanno mai pagato le licenze quindi l'ha modificata non era loro e poi lo vendevano sì ma anche il gioco la cartuccia per poter essere prodotto dovevi pagare la Nintendo loro non hanno pagato nessun diritto e nessuno gli ha fatto diritto a questo punto bisogna parlare anche del Game Wave il Game Wave è una console americana basata soprattutto sui quiz tutta quanta dedicata al cristianesimo al cattolicesimo sono tutti quanti ci sono anche alcuni giochi magari di storia geografia eccetera eccetera ma è nata soprattutto come console per la buona famiglia cristiana cattolica che in casa senza rivolgersi ai giochi perversi e che rovinano i bambini presentano una serie di quiz sulla Bibbia sul Vangelo eccetera eccetera Game Wave sto guardando sto facendo vedere anche la scatola sì ecco sì esatto esatto la scatola no aspetta c'era qua aspetta c'è un apri immagine è bellissima questa cosa che ogni tanto è sconfori però non si capisce che è solo delle cose cristiane comunque c'è una famiglia cioè sembra una famiglia sì un po' diciamo che non è indedita ai giochi ai videogiochi come li conosciamo noi di base dei quiz e tutte quante cose comunque per la famiglia partendo fra cui ha anche un bel lotto appunto di giochi dedicati a testi sacri diciamolo così dice infatti la rara ma inutile console canadese e ovviamente Matteo ha ce l'hai Matteo e che ti ho fatto la recensione l'ho trovata nel canale l'ho trovata va bene ragazzi tra poco bisogna che vada volevo rispondere a voiceover che ha fatto una domanda sempre carina una cosa velocissima così dopo lascio la partita a Igor Atari Falcon o Amiga allora io purtroppo il Falcon non l'ho mai avuto so che è una macchina potente è una macchina meravigliosa è una macchina che mi piacerebbe ci ho rinunciato perché anche questa ha delle cifre improponibili ed è forse quella che si è avvicinata più di tutti alla fine a livello di hardware era una Amiga 1200 e ho il DC40 l'ST l'STE eccetera eccetera ma il Falcon mi mag ai tempi comunque ma ancora adesso ho avuto un modo di provare tanti giochi sia in versione Atari che in versione Amiga secondo me come macchina da gioco Amiga è imbattibile rispetto a un Atari dopo sai De Gustibus però tantissimi giochi che ho provato e che ogni tanto utilizzo ancora perché comunque con la Atari ce l'ho e ogni tanto una partita ce la faccio bellissimo comunque l'estetica dell'Atari è eccezionale anche se hanno fatto una porcheria immensa nel collegamento degli spinotti sotto del mouse e del joystick odio tutte le volte che devo andare a fare stacca stacca sotto molto più comoda la parte posteriore di Amiga poi dice addirittura che non so cosa pensate però sembra vero il design dell'Apple Session 2 era basato sull'Atari Fire su un prototipo dell'Atari Falcon infatti mi sembra completamente diverso devi cercare il prototipo eccolo lì quello l'Atari Falcon Microbox esatto e niente invito chiunque ha la possibilità di prendere comunque un Amiga 500 o un Atari a 7 di giocare gli stessi giochi Bubble Bubble per dire Rodland New World Story io ho sempre trovato una discreta fluidità e giocabilità migliore nei titoli Amiga indubbiamente l'Atari è stata una macchina soprattutto per la musica che ha saputo forse dare molto di più anche se devo dire che secondo me Amiga a livello di chip sonoro non aveva da invidiare niente a nessuno anzi sicuramente però il software è stato sviluppato in maniera molto molto più performante c'è da dire che l'Atari Falcom ha un problema è stato troppo poco sul mercato è nato nel 92 ed è morto nel 93 quindi praticamente di fatto non ha potuto neanche fare nulla non c'era modo che potesse fare qualche cosa è ricresciato Matteo io? no Matteo comunque adesso facciamo ancora quanto siamo un'ora e mezza siamo ancora 20 minuti poi dopo stacchiamo quindi Falcom mettere Falcom sul piatto contro Amiga è sbagliato perché non ha potuto fare nulla cioè Falcom non è stato sfruttato è stato tolto di vendita abbastanza velocemente è stato poi rimesso in vendita dalla C-Lab modificato in modo specifico per fare musica e lì è morto quindi è difficile dire che questa macchina poteva fare qualcosa di più di Amiga 1200 su su carta forse sì alla pratica bisognerebbe mettersi lì e programmarlo ci vorrebbe un gioco che risfrutti l'hardware esatto c'è da dire che l'Atari ST pur essendo una macchina nettamente inferiore perché è inferiore a una Amiga è riuscita a mantenersi in Auger l'ho detto tante volte non tanto per la qualità hardware ma per la semplificazione hardware e un ottimo 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 marketing il marketing è stato tutto per l'Atari ST perché diciamoci la verità se Amiga se Comodore avesse incominciato a puntare sulle porte MIDI che per esempio sono presenti sul CDTV e avesse cominciato a far vedere che la musica con un Amiga CD32 e un Amiga CDTV o un Amiga normale si poteva fare meglio e fare fisicamente sul computer senza problemi perché l'Atari ST usa la porta MIDI lui fa da interfaccia per i sistemi MIDI non fa la musica non gli fanno fare tanta musica cioè gli caricano i suoni campionati e poi la tastiera fa i suoni campionati quindi può fare tranquillamente anche Amiga non è un problema però la pubblicità è stata ottima veramente ottima e il marketing veramente ottimo qui Commodore dimostra tutta la sua debolezza nel fatto di marketing vabbè comunque sono te vi lascio con un consiglio se volete se comunque avete un 1040 ST e ancora a buon prezzo l'espansione a 4 mega che vale la pena prenderlo secondo me perché su alcuni giochi che altrimenti non andrebbero li potete utilizzare la differenza si vede non è un cambio completamente come se si dovesse mettere una scheda celeratrice assolutamente però se amate Atari e volete investire su questi 4 mega di espansione secondo me ne vale la pena vedete un po' ripeto su ebay si trovavano tranquillamente anche sotto i 50 euro quindi secondo me è una spesa fattibilissima detto questo vi chiedo scusa mi hanno chiamato avete potuto rintuire vi saluto grazie scusate se sono arrivati in ritardo ciao igos ciao niente ragazzi ci vediamo e ci sentiamo spero prestissimo un concerto alla chitarra te la do in testa la chitarra te la do grazie a presto ciao ciao grazie a te hospitalità alla prossima ciao ragazzi ciao comunque l'Atari STE per assurdo è stato sfruttato ultimamente con i programmi Enhanced che non all'epoca all'epoca praticamente l'Atari STE non fu praticamente sfruttato quindi oggi come oggi forse è più godibile che ci sono molti titoli che hanno portato hanno fatto dei buoni titoli per esempio hanno fatto Dungeon Master con molta più con molti più colori e molti più suoni che all'epoca su Atari STE invece non c'era facciamo ancora facciamo fino un'ora e quaranta arriviamo due ore c'è sempre cinque spettatori tutto bene come vuoi c'è te che comandi no dico ti va bene oppure a me va bene non c'è problemi ok che so hai risposto un'altra volta non ho capito sono ah ti ho risposto sì sì perché devo ottimizzare questa cosa perché praticamente se si muove le webcam perché ne va via una là allora si sposta tutto il adesso ho messo a posto no tanto Igor ti dico che tu sei abituato a fare delle live lunghe dici sempre faccio mezz'ora così poi dopo due ore però Igor adesso devo dire una cosa perché te mi hai salvato la vita ma non lo sai tre volte sì tre volte perché ti spiego ma sono fregati no no a febbraio di quest'anno ho dovuto fare diciamo per questioni amorose passate un viaggio in sud Italia di notte senza aver dormito cioè praticamente più di 24 ore senza dormire io ho detto come faccio a stare sveglio in macchina perché sono partito a mezzanotte non ho dormito niente sono arrivato in Puglia alle 6 del mattino ho detto come faccio a stare sveglio perché non avevo dormito niente cosa fa me la immagini eh me la immagini stavo oh in macchina ero l'unico tra l'altro era il periodo dove c'era lockdown quindi c'era di camion che bloccava insomma oh mi sono messo su video del tè del gori tutta la playlist gamecube così erano tre video da due ore e quaranta ma mi faceva morire da ridere in macchina con le casse l'impianto bluetooth oh stato sveglio attento una coca cola sono arrivato lucido il momento in cui è finito ho rischiato da ammazzare perché mi sono addormentato no mettiamo l'altro episodio oh sono arrivato concentrato attentissimo attento a tutto cioè che tra l'altro in quella live lì ero anche apparso cioè avevo anche scritto io che avevo fatto le domande e il gori mi aveva anche risposto quindi non lo sai ma cioè io le trovo veramente veramente interessanti anche se sono lunghe però faceva morire che tu continuavi a dire dai gori basta cioè i giochi i giochi lui continuava a giungere impossibile non finia più una cosa perché il problema di quelle dirette lì è perché gori vorrebbe fare un qualche cosa che non è mai stata fatta in italiano e forse non lo fa nessuno cioè parlare di un qualche cosa di una macchina in modo specifico e snocciolarla il più possibile storia l'hardware i giochi dare qualche 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 commento sui giochi quali sono belli magari tipo di pubblicità è un'idea del gori poi alla fine questa e quindi tutte le volte che è un suo è un suo piccolo progetto diciamola così e mi piace anche a me e quindi quando lui si fa si fa prendere da 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 del momento buonanotte non lo ferma più nessuno sui giochi poi era una roba eh ma poi li conosci tutti sì ma un sacco di titoli che io non conoscevo altri sì però oh comunque non mi sono mai annoiato sarò io che sono particolare però ma guarda mi fa piacere ora io magari non volevo fare da 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 svegliatore di persone però cioè ti dico più di più di 24 ore ero stanco riuscivo a stare concentrato e attento interessato a quello che stai dicendo perché cioè uno pensa di sapere tutto di una macchina nel senso anche io che sono di una generazione cioè più o meno le cose poi invece si scopron tanti di quelle cose che sia a livello hardware ma anche a livello di di storia sai ora a parte che ora questo periodino che fra tutti qui vi ho fra perché avevo ripreso il covid ho ripreso la febbre sono stato male il 24 e il 25 di Natale l'ho passato la febbre a 38 39 insomma è stato proprio semplicissimo sono stato male comunque ho dei problemi ancora con voce qualche volta mi va su mi va giù insomma il gore è uguale siamo stati un po' male quindi abbiamo dovuto un po' di non lasciare ho fatto quelle dirette veloci veloci si fa per dire ho fatto quelle dirette a sparata perché per far vedere che ci siamo ancora allora bisogna ripartire con le prossime macchine quindi ci sono per quest'anno ci saranno altre macchine che dovremmo fare io c'ho da tirar su mi ha dovuto tirar su devo tirar su la storia della Konix Multisystem sono già pronto anche su quello quindi insomma ti ho sentito parlare di quel sistema lì eh sì un bel sistema faccio vedere un attimo faccio vedere un attimo ci sarebbe piaciuto vederlo questo sistema però purtroppo nessuno l'ha mai visto praticamente perché non è mai uscito certo aspetta come era fatto perché era arcade no? o no? era? era un arcade o una console? no no una console il Konix Multisystem è una console ok Multisystem ah ma è scritto con la K ecco perché me lo trovavo Konix con la K sì sì eccolo qua sì 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 che qui c'è un volante sì era un trasformabile un joystick trasformabile sì che poi doveva andare anche con una sedia giusto non c'era sì allora era un joystick trasformante si doveva trasformare in un volante quindi per giochi di guida con una moto quindi giochi di guida di moto oppure con una cloche quindi giochi di guida giochi di volo o quant'altro poi il tutto poteva essere montato su una sedia basculante elettromeccanica ed era possibile poi aggiungerci un joystick e una pistola per altri tipi di giochi famosa è la foto quella di il capellone che poi è Jeff Mint che però è falsa cioè nel senso lì ah il capellone l'ho messo adesso sì Jeff Mint lui sta facendo praticamente finta di giocare perché in realtà l'avevano appena montata quella cosa lì poi l'avevano portata a far vedere in varie mostre poi in tutte le foto ce n'è una diversa purtroppo è abbastanza difficile vedere la stessa macchina una volta c'è di colore nero una volta c'è di colore bianco è vero infatti l'avevo sempre dire sì è vero grove verde in realtà c'è una una versione che è quella grigia che fecero vedere prima che praticamente è un pezzo di legno è proprio un legno e non funziona non può funzionare perché era solo un mock up giochi dovevano farne diversi ci dovevano essere diverse persone lavorarci ma in realtà poi alla fine doveva uscire anche della ninja 2 doveva uscire com'è che si chiama quello pod robocop qualcosa di pesce robocop e altri titoli invece poi di fatto non è uscito mai niente tra l'altro c'è c'è chi sta urlando ho trovato la macchina l'ho trovata e invece ho trovato un'unità developer oppure una scheda vuota non montata di quella che doveva essere il coniz ma che poi sopra non c'è saldato nulla quindi hanno fatto anche un piccolo emulatore in base all'unità developer che ovviamente funziona male perché già funziona male l'unità developer figurati se funziona bene la sua emulazione certo vabbè certo Garrison chiede che video era mi ha incuriosito allora sono due video di Igor che mi sono visto proprio di Igor e Igor una quella sul Dreamcast e l'altra quella sul Gamecube sono i due video che ho mantenuto sveglio in vari momenti si vai sul canale Igor Stellar lo trovi molto approfondito ecco mi sono dimenticato di dire che tra l'altro nella descrizione del video sotto trovate il link al canale sia di Matteo che di Igor per chi non li conoscesse prima poi c'è da dire Igor che io sia io sia te che Matteo vi ho conosciuti grazie a voiceover parlo di quattro anni fa quindi se non fosse stato per voiceover non so se l'avrei trovato no ma non è che c'era tanto nascosti noi si parlava lo stesso lo so però non so perché sarà che ero comunque poco avvezzo a queste cose più diciamo di nicchia così approfondite come fate voi però sai io sto molto sul mio nicchio io mi giro mi balocco molto tra Commodore Atari perché poi tra l'altro nonostante parlo tanto di Commodore a me piace più l'Atari però inevitabilmente in Italia è andato molto di più Commodore Sinclair parlo di 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 arcade retro gaming in generale cerco di di espandere il più possibile la cosa più che altro cerco di far conoscere le macchine il mio intento non è quello di dire tutto per forza il mio intento è che la gente sia invogliata poi a cercare altre informazioni altri video altre pubblicazioni libri insomma che si informi no ma infatti mi fa piacere anche vedere come avete parlato in maniera approfondita di macchine così recenti come il dritto sì comunque te ne intendi anche di quelle insomma ma sai sono tutte macchine cioè è come quando mi fanno la domanda ah ma te sulla 360 cosa giochi la 360 è l'interno lo so nel senso io purtroppo sono di una generazione che le mie macchine sono quelle queste macchine che parlo spesso la Playstation 2 che io l'ho vista ma ero già grandello ecco che sono meno ferrato però anche tutto il discorso sul Triforce che hai fatto vedere che dentro c'era il GameQ comunque te ne sei studiata il Triforce simile la Triforce è stata una cosa strana allora quel Triforce lì io dovevo pulirlo perché era sporco da morire io lo smonto tutto che ha mille viti lo apro e vedo che dentro c'è un GameCube e io dico ma che strano ma sembra un GameCube allora smonto il mio GameCube e li guardo e che ha perolesso sono lo stesso hardware e da lì me la sono studiata perché ho detto ma com'è possibile poi ho capito che è successo che lo dico nel video praticamente per risolvere un problema anche di vendite e comunque di risfruttare delle catene di produzione che già esistevano hanno preso i GameCube e non lo fischiavo dentro tra l'altro mi sa che c'è anche proprio lo slot cartucce e controller proprio dentro si non l'ha neanche tirati via cioè uno dei due non mi ricordo e io in quel video ci monto l'unità cd io lo monto dentro l'unità cd io l'ho acceso è che ovviamente non avendo il bios dentro non parte perché lui cosa fa carica il bios insieme al gioco nella versione arcade quindi dovresti caricargli un bios e poi ma se io gli metto un bios a bordo quello è un GameCube normalissimo tra l'altro c'è un canale di youtube ho visto piccolissimo che si chiama proprio triforce italiano parla solo di quello solo triforce ah può darsi ma se si ho visto c'è tre giochi eh ma i giochi ce n'ha pochi eh perché è una macchina che ha avuto poco successo ce n'ha tre o quattro quanti ne ha si è un tre e quattro guardando c'ha due Mario Kart e non mi ricordo ma quelli più 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 famosi rimangono così il Mario Kart e quell'altro me le che non mi viene in mente Donkey Kong Jungle Fear Donkey Kong Barana Kindle allora quello che tutti vogliono è F-Zero F-Zero ah c'è Star Fox anche eh c'è anche Star Fox sì c'è anche Star Fox ma Star Fox la gente lo conosce meno secondo me merita moltissimo però ma quando loro parlano di Triforce tutti vanno a ricordarsi l'F-Zero perché è veramente bello sì e Mario Kart beh F-Zero eccolo qua F-Zero AX F-Zero AX Monster Ride a me piace moltissimo anche Star Fox devo dirti la verità eh non ci sono tante foto c'è anche di Chiso ma ci sono due non ho capito c'è la versione Siga e Namco come? no ah ho capito perché forse alcuni titoli sono sviluppati da Namco anche da Siga perché c'è due link al Triforce il Triforce praticamente va a utilizzare quello che è un brevetto di Siga che è il GD-ROM sì ok quindi per forza lo zampino perché Triforce perché tre unioni Siga Nintendo e Namco e però c'è due sezioni c'è scritto Namco Triforce e c'ha dentro Donkey Kong Banana e Mario Kart e Star Fox e poi c'è l'altra sezione che è Siga Triforce e c'è dentro l'F-Zero sì non so vabbè non so e poi c'è anche perché probabilmente era importato come Siga eh poi c'ha dei giochi tipo baseball un po' bruttini sì baseball è un altro gioco che in Giappone va moltissimo è vero sì infatti infatti l'avevi detto in un video ho detto non so perché in Giappone impazziscono del baseball mi ricordo e sono anche bravi sì sì mi avevi detto ma non ricordo neanche che vi anni fa ci sono anche delle ottime squadre di baseball ora il baseball è un gioco che non lo conosco non lo capisco quindi alla fine mi fermo lì no no ma anche io per quello eh niente boh io direi che siamo arrivati alla fine per oggi sempre stato seguito non ci sono mai stati meno di 4 spettatori cioè ma è Rossover che ti ha fatto delle domande ah sì è vero rispondiamo a queste e poi dopo vabbè sarà un'altra domanda risponderemo nei prossimi video ed è il philip cdi che ne pensa Igor philip cdi ne ho sempre parlato tantissimo e anche sempre molto bene io l'ho presi presi il primo cdi che era il 450 pagato uno stomfo di soldi perché l'ho preso all'epoca proprio per giocare a Dragosdair che ritengo che ce l'ho ancora che ritengo la migliore versione come grafica perché obiettivamente è molto molto vicino bisogna giocarlo però sul CDA originale perché se no si vede i pizzelloni e lo Space Ace c'è anche Dragosdair 2 ci sarebbero anche con la pistola e me dono mecriere gli altri ma quello che mi piaceva di più era Space Ace e Dragosdair e devo dire che funzionano veramente meramente molto bene tra l'altro il mio originale 450 lo scambiai proprio per un Dragosdair 2 originale tra l'altro ok niente ah le videoriparazioni le videoriparazioni non le faccio o perlomeno per il momento non le ho fatte perché il problema principale di quella roba lì è che quando le fai devi essere molto preciso e io non sono molto preciso che quando lavoro lavoro abbastanza raffazionato ho fatto dei tutorial le ho fatto vedere ho dato dei consigli di come si fanno le riparazioni o d'ho spiegato cosa fare e cosa non fare però ci sono persone che obiettivamente su quel tipo di video lì sono più brave di me ce ne sono ultimamente ne sono uscite tante e anche in italiano e devo dire che non credo che ci sia bisogno che mi metta a fare anch'io il lavoro lì le riparo poi io le riparo a modalità diciamo obbistico perché io questi studi li ho fatti per conto mio quindi ho iniziato gli studi a scuola poi li ho lasciati poi li ho ripresi da per conto mio e quello che so è perché ci ho lavorato sempre da solo è vero che ho sempre avuto il saldatore in mano perché mio babbo ha sempre fatto questa hobby e quindi io già sei anni saldavo che era una meraviglia però diciamo che c'è persone che hanno più metodo più studio e sicuramente fanno video migliori si capisce molto di più che non dei video che faccio io qualche volta l'ho fatti sono più simile dei tutorial ma cerco di fare roba che chi li segue riesce a capire molto bene che cosa sto facendo e le videoriparazioni fare una riparazione insieme dalla A alla Z io ci arrivo con delle idee tutte mie insomma a volte spiazzo certo no va bene ho capito ma c'è molta concorrenza sì magari qualcuno no non è che la chiamo concorrenza io in realtà sono contento monapasco e ci sia un monte di gente in italiano che fa questa cosa quando ho iniziato io ero uno dei pochi se forse non voglio dire l'unico ma insomma uno dei pochi che faceva questi video in italiano ho iniziato con i tutorial della Dreamcast in realtà non era un tutorial ma era per far vedere le riparazioni di quella Dreamcast in particolare poi ho fatto i tutorial sì sì è vero mi sono d'accordo che sul parco italiano non c'era nessuno nessuno ne parlava nessuno ne discuteva e allora ho cominciato a fare qualche video di questo tipo poi nel tempo sono arrivati gli italiani io sono contento quando ci sono persone che fanno anche video migliori di mia o che riescono a spiegare le cose meglio di me io non ho nessun problema ad ammetterlo no no ma infatti ho visto che ti eri anche dispiaciuto per quel ragazzo che era appassionato del retrocomputing ultimamente sì quello quello l'ho voluto fare perché so che lui aveva a chi ha ripreso però mi dispiaceva che lui si fosse arreso in quel modo lì sì infatti ti avevo sentito io ero convinto e infatti poi è stato così se vedi nei commenti c'è lui che scrive io ero convinto che lui era deluso del momento ma che non avrebbe veramente mollato però ho voluto dire la mia anche un po' per aiutare lui ma anche per aiutare tutti quelli che si trovano in quella audizione lì collezionare questa roba qua io qui sono veramente strafiano di materiale ti giuro che non è sempre così semplice a volte dici ma che te lo fa fare e quindi insomma trovare lo sconforto trovare quello che ti frega o trovare quello che ti piglia in giro insomma c'è sempre ho voluto fare anche quel video lì certo certo ma no ma anche a me non immagino i tuoi livelli perché travi sicuramente delle cose più complesse però anche qua quando ce l'ho anch'io un po' di robetta non come la tua però insomma far collegare tutto ho avuto dei momenti che non ci vivevo qua dentro era tutto un casino insomma un po' un po' a volte non dico che ti vergogni di te stesso però ti senti un po' l'imbarazzo comunque te ne voglio dire una vedi questo aggeggio qua questo qui è l'ottica dovrebbe essere l'ottica del del CDTV ma in realtà è una versione che non dovrebbe essere compatibile vedrai che farò un video in cui spiego invece come renderla compatibile perché lui ha detto che gli piacciono quei video eh ho visto no dai Igor a me sembra che sia piaciuto insomma la gente ha partecipato la gente ce n'è stata dagli otto ai quattro spettatori la prima volta secondo me per l'argomento che era comunque dopo l'approfondimento non abbiamo parlato assolutamente di tutto c'è un sacco di roba da parlare però abbiamo fatto un po' una chiacchierata così dopo vediamo di farne ancora dopo vediamo se ne serve un altro se volete un secondo episodio di questo argomento lo faremo sennò poi passeremo alle console adesso la prossima volta ci vediamo discorso emulazione con adesso vediamo con un altro ospite poi Igor se vuoi essere anche te ovviamente non so se ti interessa però mi dirai insomma direi se ti interessa io l'emulazione sono sempre abbastanza acerbo insomma io preferisco l'argomento finale però come ho sempre detto l'emulazione è il futuro di questo sistema c'è poco da fare sì perché gli anni si sentono addosso e poi dopo diciamo che quelli come voi che ci stanno dietro queste cose scarseggiano secondo me già per esempio io per esempio benché affascinato da quel mondo lì non ho la stessa dedizione appunto perché non era la mia epoca cioè mi piacerebbe cioè non me lo metterei in casa i mobili che c'hai te ci giocherai emulato mi rendo conto che non è affatto la stessa cosa cioè quello sì è bellissimo vedere te che ce l'hai però se dovessi tenermele io metterci le mani non sapere dove partire comunque non avrei la stessa così insomma il discorso è quello dai queste cose qui come tutta la roba che c'ha più di 30 anni dobbiamo essere coscienti che funzionano vanno ma è un miracolo e vanno perché non sono stati progettati per durare così tanto quindi il guasto te l'aspetti devi essere pronto a metterci le mani o farci mettere le mani e via via per esempio io adesso ho un NES che devo farci l'RGB c'ho già la scheda è troppo complesso per me lo faccio fare non so se li conosci Power Games di PUBG sì mi porto da loro ho visto che fanno già queste cose perché prima pensavo ma di saldare la PPU non è proprio anche quella è una cosa che odio che la gente ci metta le mani dentro senza sapere neanche cosa sta facendo tu apri una macchina e per esempio c'è una persona una volta mi ha telefonato mi ha scritto dicendo guarda io secondo me qui c'è le piste interrotte per quale motivo ah perché qui c'è vedo la vernice leggermente opacizzata prendi il tester e prova e lui aveva già staccato il componente ah e nello staccare il componente si è portato dietro tutte le piste ecco adesso l'hai distrutto a posto diciamo che se uno si rende conto che non è alla sua altezza meglio non rischiare portarlo da qualcun altro esatto per esempio di qua che ho fatto io che me la sono sentita è stata la PS1 perché ci ho messo l'opsail che sarebbe il lettore SD che ci va saldato un chip dietro quindi l'ho fatto non era troppo complicato e poca altra poi sullo SNES Super C CPU quello per avere 60 anche il Mega Drive a 60 però allora ognuno di noi sa i propri cioè è inutile che ci mentiamo sappiamo le nostre capacità non è che siamo imbecilli esatto io apro una macchina e la guardo ne sono capace no e a questo punto se io dico no ma ci voglio provare sappi che potresti rovinarla è certo se invece dici sì me la posso sentire c'è sempre il rischio ma perlomeno parti con un piede diverso perché poi dopo arrovinare una macchina non torni più indietro sì sì ma infatti il NES non me la sento anche l'intennio 64 l'ho già presa da un italiano l'ho trovata già nel RGB ma quel NES lì tra l'altro è un modello francese non so se l'hai mai visto quello con la porta diversa io lo so eh con la porta diversa che ha un finto RGB il NES c'ha il NES francese praticamente dentro il modulatore c'ha un chip DAC video è stato messo all'interno per tirare fuori l'RGB praticamente lui dà il segnale che gli arriva per il modulatore riesce a tirarci fuori con tutto un circuito abbastanza complesso un RGB per farlo uscire in RGB ma metterci la la modifica è più complicato che un NES standard secondo te o non cambia niente ma c'ha un RGB io non gliela farei la modifica cioè però un RGB non puro un RGB derivato dal composito sbaglio comunque comunque è un buon RGB perché è ben amplificato un buon audio ah ok con colori tutto sommato non è da buttare nel cestino poi oh se mi dici no io voglio mettere il DAC la PPU direttamente dentro perché la crea poi lui l'RGB io la piglio da lì bella 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 forte me l'amplifico me la sparo poi sul sul televisore ok sei libero però non è cioè non è così cattivo come segnale video è meglio di quello standard ah beh questo è un po' ma sicuro meglio del composito c'è tutto no no posto posto no no infatti io perché non ho ancora avuto modo di provarlo perché il cavo mi deve arrivare perché c'ha quell'ingresso di strano senza il dentino no adesso l'ho trovato e allora appena arriva provavo poi decidevo se vedo che è già dicendo guardi e vedrai che non è cattivo è un buon video naturalmente cioè se lo metti accanto a un RGB in cui è più sicuramente puro perché poi puro non puro si sta a vedere che vuol dire però diciamo più forte migliore ovviamente si nota la differenza ma noi stiamo parlando di un NES se tu me lo metti in confronto a un NES insomma voglio dire si ne vede la differenza secondo me io non la modificherei anche perché sono macchine anche abbastanza difficili nel nostro mercato da trovarsi infatti io penso che l'ho presa a caso su Vinted mi serviva il NES lo cercavano un NES ma poi mi sono accorto dopo che era la versione francese e non l'ho pagato neanche tanto non è tanto il costo è il fatto che è una macchina un po' più difficile da trovare tutto lì però il cavo RGB quello lì non c'era l'ho trovato da un'altra parte ho fatto fatica a trovarlo a un prezzo basso ci credo lo stesso cavo identico su ebay ma quello lì del NES 1800 euro di quel cavo lì del NES senza il dentino su ebay vabbè hanno battuto la capoccia ultimamente ce n'era solo uno e poi invece su un altro sito su Subito l'ho trovato a 20 euro guarda poi si chiude però ultimamente i prezzi sono andati fuori di capoccia roba da fantascienza a me sta bene tutto che questo qui hanno una certa visibilità e quindi diventa più costoso di prima trovare la roba ci sto dentro anche se c'è molta speculazione ma quando vedo gente che mi mette in vendita oggetti che tutto sommato sono anche abbastanza semplici a trovare ripeto scrivi Commodore 64 su ebay e vedi quanto è tenere sbuca fuori a me quando mi chiedono un Commodore 64 per carità perfetto per carità completo scatola poristirolo tutto perfetto like new e mi chiedono 1000 euro la prima cosa che mi viene in mente tu sei liberissimo a provare a mettere in vendita 1000 euro ma secondo me nella mia mente vedo te che stai tirando le martellate contro il muro attestate perché sei impazzito non c'è verso 1000 euro perché il tuo lo reputi migliore degli altri quando ce ne sono altri 100 poi se tu mi vedi pezzo prototipo si sta zitti la stessa cosa sta succedendo sull'ispetro sta succedendo su CD32 che è sempre stato caro tra l'altro come macchina quindi non è mai stata veramente a buon mercato anche quella sta raggiungendo cifre molto alte in 1200 4000 e 3000 sono sempre state macchine care c'è della gente che ogni tanto arriva per esempio pc compatibile 486 quindi non marca niente di particolare 900 euro dove le hai tirate fuori queste 900 euro tipo il coniglio del cappello come ti è venuto in mente che vale 900 euro un pc compatibile sai tu mi dici pc compatibile ma Atari ma sono rari pc compatibile ma comodo via sono rari pc compatibili Epson cavolo no un assemblato dai per quanto possa costare 800 euro solo la macchina io non te li do no 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 infatti qualcun altro glielo può dare gli da alimenterà poi questa bolla che va su però ripeto attualmente è impossibile pensare che poi soprattutto ora che mancano soldi figuriamoci che ora la roba te la regalano si 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 infatti la regala per nessuno però almeno cerchiamo di stare dentro a un mercato capperolesso non è possibile che ci sia gente come quella centralina rgb scarte che c'è che ne hanno parlato bene in un video quella come si chiama la bendridge lì svb 72725 che quella passiva meccanica 5 input un output quella lì che la trovavi fino a 4 anni fa 20-30 euro ce n'era pieno hanno fatto quel video lì quel canale che parla di adesso non voglio dire il nome adesso ce ne erano solo 2 3.000 euro si e a noi si faceva la pubblicità a una auto switch che era una delle poche rgb con le prese scarte dietro ora hanno smesso di produrle anche quelle lì le hanno prese per il fondello fino a ieri ora non le fanno più e adesso tu le trovi a 300 euro in vendita non ha senso non ha senso comunque vabbè vabbè niente a posto a posto così io ringrazio tutti quanti ringrazio Igor è stata chiacchierata spero che ti sia divertita alla fine ah si si ora non so quanto tempo siamo andati 2 ore 10 ah quella è sciocchezzuola anche te hai fatto un video di 2 ore dai va bene mi fa piacere niente ci sentiamo a presto fatesi sapere se vi è piaciuto questo format siamo un po' ancora l'organizzazione è stata un po' così per la prima volta comunque ci sosteniamo pane a pane buonasera Igor e buonasera a tutti quanti alla prossima